Ma siamo online! Siamo online e siamo live finalmente questa serata nuova oggi. Buonasera a tutti e oggi torniamo finalmente con il beniamini del canale, i Tau. No, i Necron hanno la loro molto dedicata, i Tau hanno i loro... se vuole lei, semplicemente perché i Tau sono bellissimi, sono... blu! Marron Man! Blu, blu solo! E tu che coloro sei oggi? Fa una marcia, io sono verde, verde speranza, verde passione, verde invidia. Infatti io i Tau rossi da di rossi, io i da di truccati e qui da posto. Necron Verdi da di Verdi, ma va bene. Necron Man! Va bene, bentrovati a tutti, come state, ne stiamo bene, siamo in piedi qui per voi, pronti a darci legnate sui denti, probabilmente. Oggi abbiamo uno scontro tra i nostri amati Necron, i Necron tanto piacevoli, tanto piacenti, tanto odiati a tutti e i Tau. E i Tau, invece i loro amati da tutti. Esatto, tutti amano i Tau, tranne in sesta. Tutti amano i Tau. E poi in tutto dai. Vabbè, dicevamo, oggi giochiamo la missione E, cos'era? Sì, la missione E che sarebbe taken hold, chosen battlefield e questo. E layout abbiamo deciso di layout. Sweeping engagement. Ah sì, Sweeping engagement con layout 3 del pacchetto Leviathan, per variare. Infatti abbiamo degli fuoco imbarazzanti. Tremendo. Tremendo. Dopo aver schierato c'è un buco nel tavolo. Tremendo. Ci sono due assi di fuoco uccidanti in questa mappa. Sì, veramente. Quindi dovremmo stare il più coperti possibile. Esatto. Il mio avversario ha scelto di giocarmi contro due bellissime... Vabbè, arriviamo un attimo. Due bellissime secondarie, ovvero Bringdown Assassin. Bringdown Assassin, perché è easy, palese. Mentre lui, poverino, dovrà fare il giocatore vero e farle randone. Certo, il vero uomo, a differenza tua. Il necron qua. Bene. E niente, ci raccontiamo le liste. Ma prima delle liste, se siete con noi su Twitch, vi ricordiamo che abbiamo i nostri bellissimi punti canale per fare cose buffe come mandarci audio, emot e richiedere cose particolari come i primi piani dei modelli. Esatto. Se invece siete su YouTube, il tasto mi piace, che è sempre piacevole da cliccare, ci fa... non so che parte sia. Sotto. E sotto. E so che sotto, ma non so che parte. Eh, so. Ci fa sempre piacere perché ci aiuta a far apparire i nostri video a più gente. commentate, condividete, iscrivetevi. Diteci Shadow-san. Sì o no? Sì o no? Tu? Shadow-san, sì o no? Tu sì. Tu hai un kink per Shadow-san. Due volte. Bene. Passiamo le liste? Si piega del geminaggio. Rima che la regia ci uccida. Passiamo le liste. Neco! Ha ha! Però non con la fotocamera bella. Allora, devo dire che oggi devo protestare contro la censura giornalistica perché io volevo portare un'altra lista che però mi è stata censurata e quindi oggi si va con questa bellissima lista. Allora, è sostanzialmente la stessa lista che ho fatto contro il povero Mac, il povero ragazzo Dostapanes, con l'unica differenza che l'unità di Distruttori Locus è stata sostituita con un tan trascendente. Ma infatti vediamo bene. Allora, tan trascendente come abbiamo già detto. Unità da 20 guerrieri con Mititore e Overlord con Mantello con l'Enouncement che gli permette di binare agli uno per colpire l'unità, tutti i terri per colpire se sono stati piazzati. Ciò significa tramite l'abilità di distaccamento che è quella del terratasporto o tramite il monolito. E plasmante con Re-Enouncement che gli dà all'unità Deep Strike che quindi sinergizza con l'abilità di distaccamento. Abbiamo il nostro generale il Distruttore Exmark nascosto dietro l'angolo. due sempre belle Arc Apocalypse, sempre pronte a fare casini. Sei Distruttori Scorpec con Lord Scorpec e i due token perché noi usiamo anche i token giusti dei due plasmaciti e il bellissimo sempre bello monolito. il Pandoro che ha anche la basetta stavolta quindi nessuno mi può fermare. Guardate la basetta come si mimetizza. E dopodichè in Deep Strike sono messe... effetti speciali. E in Deep Strike sono messi due unità da cinque decocecchini e un'unità da cinque scorticatori. E con questo ho finito. Quindi da una parte abbiamo un Pandoro, una polpetta, dall'altra parte abbiamo i Tau. Shadow Sun. Allora, quindi tutto partiamo. Abbiamo Shadow Sun, bella qui infilata tra tante cose ingombranti. Sul divano. Esatto. Aon Va. Do Va. Eccolo qua. Aon Va. Circondato da sei Crysis con uno Ioni con due plasma luna, scudo e due droni scudo. Con un Commander Callstar con quattro Ionici. L'enouncement esemplare del Cow Ionon. Ovvero dal secondo turno inizia già ad usare la sua rivestra di armata. Quattro cani di affianco ai Crysis. Devilfish con dentro dieci Breachers. Due Tetra. Tre Stealth con un termico, vari droni, cose varie, come vedete in storia di pressione. Che non ci sono i droni però. Brozade con Railgun e missile. Due Tetra. Un Piranha. Quattro cani, qui uno si è addormentato. Aspettate che si è addormentato il cane. Eccolo. Tre Stealth e in riserva abbiamo un'altra Brozade. Un altro Piranha. Due Commander. Enforcer con quattro Ionici. Perfetto. E con questo abbiamo finito le liste. Secondare abbiamo schippato l'ordine, l'abbiamo già dette. Assassin's Creed no per me. Rando Amiche Perry. Rando Amiche Perry. Buono stavo. Esatto. E niente, vediamo chi inizia. Tocca il dado importante. Non serpeverde. Non serpeverde. Non serpeverde. Non serpeverde. Serpeverde. Sai che la regia ci dava anche il dadone grande era più caruccio. Bravo. C'è qualche Doom e dal tempo di arrivare all'altra pagina del dado. E che speed run è già tardi dobbiamo che pizza serpeverde. Quindi il mio avversario in terra primo. Ma in realtà posso fare cose migliori? Eh vabbè. Io devo fare i momenti pre partita. Cacchio. Con i miei ispiratori. Solo in fronte. Scusate. Sono in fronte. Allora, se la regia mi dà la top io faccio un po' i momenti ispiratori. No. Io mi metto già un CP perché sono un cano. Allora, andiamo sui miei ispiratori. I cani quanto muoni? 9 come avevo detto. Quindi posso fare cose buffe. Tu potresti nel tuo turno. Non c'è. Qual è il Mellertami? 6. Tutti gli attivatori 6. Si tratta di asporto però ti ricordo. Sì, non so. Una volta per turno? Una partita? Sì. Quando assalto. Cioè quando assalto. Sì quando avanzo. Ok. Quando avanzo. Quando ogni turno. Sì. Oppure fine turno. E se quelle le dì sarei per farlo o no? 9 pollici di stanza. Ok. Quindi secondo me qua ti non pompo le scatole. Ah vix play. Just as planned. Cosa volevi? Cosa volevi? Che io facci questo? Io ho già finito la partita. Però non puoi saltare se tu fai quella cosa? No. Ok. Comincia lui sì. Comincia il mio avversario. Mannaggia. Ho sgravato troppo i dadi all'inizio. Eh già. Non dovevi scaricarmi i dadi. Eh cazzo vero. Ah. Io potrei muore altri cani. Mi hanno fregato. Ma mi poteresse e non far tirare sull'obiettivo. Quindi se io metto cane. Cane pazzo patto cane. Se io metto un cane qua. Tu non riesci a tirare sull'obiettivo perché sei a... 9. No ce la fai. Devo mettere un cane fuori. Bene metteremo un cane fuori. Però tu hai dei guerrieri che potrò muoversi e spararmi in realtà. Non mi piace. C'ho 12 pollici di cittata. Mi piace di più. No va bene. Questi cani saranno qua nascosti. Che... Bene. Ho finito i minimi momenti pre partita. Ah fine. Non vuoi fare altro? Sono questi. In realtà. Piragna. Eh piragna non vuoi fare? No. Come no. È messo lì quel piragna per un motivo. Come no. Il tetra non dovrebbe essere scout. Quindi. Si può iniziare il mio turno. Ti confermo un scout. Sì. 3, 2, 1. Via. Vada mio avversario. Un CP per me. Eh. Che non mi sgravi troppo davanti. Ma vediamo. Tenterò. Scusa il vuole. Ho generato e cipini in qualche modo. No. Eccolo. Ha già. Ha perso CP. Ha perso CP. Ha perso CP. Ha perso. No. Sotto a me è un genocipista la lista. Tu il posto me l'ha lasciato. Sì sì. Poi metterla nel direct town se vuoi. Just as planned dirai. Possibile. Sì. Muli. Eh. Niente. Fine. Bene. Primo turno. Sì. Che schifo. Bene. Primo turno. Primo turno. Niente. Quanto hai 24? Che top? Eh eh. Allora. Devo trigonometrare. trigonometrica laserino prego coca coca cola però dovremmo volere tanto occhio c'è ancora l'angolino l'edificio qua mi sposto qui e da lì vedo come è mollito? chissà dio, otto, dieci forse con otto non so che c'è a fare arrivare oltre lo scenario devi fare tutto il giro sono towering, mi basta toccarlo sei towering, che brutta cosa penso sia towering quindi ti vedevo quel monolito no perchè sono dietro alci dietro, vedi? metta voli quando vuole esatto al tasto on off lo carico 3 e 5 in avanti arriverei qui che sono quindi abbastanza per questo non penso proprio che schifo dovevo iniziare per primo io va bene muli vedi quinta fase di comando? no la fase di comando è già finita da mo sto facendo un fase di movimento ah scusa sto ancora pensando no il monolito non si muove un attimo il monolito se muove si muove muore muore chi non muove si rivede lei non ha sottorti come è saggio lei allora c'è pane adesso non voglio neanche fare solo play perchè devo andare a dormire maledetto come scappa non mi ha messo le cose bene questa frase se dovresti dietro aspettate l'ho spostata come i cani ok questi cosa sono? tetra cosa fanno i tetra? schifo non hanno oltre di danno minimo cioè lui avanza e si muove ok a bordo dell'obiettivo bordo bo bordo bordo bo bordo ecco tanto questi non li posso targettare quegli altri non li posso targettare un po' come il pollice d'estelter si si sono 6 si sono 12 bene sai che ha una bolla di non knife di 20 pollici quest'elter lui non entra in cosa? da fare lo so in giro avanzano questi eh vedi sgravi sgravi proprio più ne che non sgravi loro si muovono di 7 o 8 io dico 8 quindi siamo di 14 diciamo tengo a precisare che nessuno è stato ucciso in questa azione o ferito scusatemi se è solo un regolamento che ha fatto un bel volo adesso per favore grazie non so più come si giocano i necron io non volevo un monoctunnel se non mi tocca muovermi le robe allora 8 ho detto giusto quindi 14 pollici ma io non li muoverò di 14 pollici spero secondo? no togli il freecam pure perchè l'area è girata e qui no? l'avevo appena fatto l'avevo appena fatto l'avevo appena fatto l'avevo appena fatto il discorso che non bisognava ricordiamo la polpetta la polpetta con gli scudi la polpetta la polpetta la polpetta pow patrol si ti metto per sfregge i plasma sei davanti che sono token giusto giusto io gli giochi i token cremi confusione ancora più contagiavo già sta splendido questo qui guerrieri avanzano non serve che tiro perchè grazie all'abilità di quell'altro simpaticone muovono la patente di 6 e quindi si muovono di 11 hanno anche la doggo cam ciao doggo bene userò questi e tra l'altro possono attraversare le cose come se non ci fosse il doggo non il resto non si preoccupi facciamo così appena fuori come piace a noi muli come comunque ci dicono che i necron sono sgravi e non si ti fanno i necron per niente piuttosto che ti fai la regia che ti fai i necron la regia è i necron si è girato via cosa sta dicendo questo questa dei come faccio al padre di 10 punti di coraggio dei suoi cancellari ma guarda ha parlato ha parlato con che coraggi con che coraggi con che coraggi questo schifo di terreno non so se è un bonus o un malus e io che aspetto di 20 ordici no no di 18 16 di avanzamento e posso farmi con il mio salto su tutto e beh ovvio muli eh no buonasera voglio evitare di far boiate stavolta te li lascio comunque fuori queste va bene e niente vediamoli che sennò fanno casino dall'alto non muovi niente lì mi sono mosso comunque questo rimane dietro quello si è mosso queste sono avanzate quello è teletrasportato ma quindi non posso spararti ai cani no peccato non più tu veda niente in questo momento che pizzetta e niente quindi fine del mio turno bene sarà fine del suo turno un cpm siamo 2 a 2 ah ah 10 punti di bring it down speeder speeder ok turno mio allora prima di tutto prima di tutto io ti faccio alzare il mazzo ma per favore non vuole la carta che c'è sotto come il tuo solito e se c'è la matta come faccio? non c'è la matta sei tu il matto ok allora iniziamo benissimo non posso farla perchè va risciaffolata del mazzo risciaffoliamo cleanse posso farla senza problemi extend battle lines posso farla senza problemi visto fatica quindi abbiamo due secondarie molto facili già avete sentito? cleanse extend intanto le metto qua rimescovo il mazzo mentre penso che devo fare il mio turno il mio turno io devo muovermi in maniera intelligente fare un po' di azioni non darti troppi bersagli bloccarti qualche eventuale dipstar che tu fai il prossimo turno o rischieramento giusto devo decidere alla fine del tuo turno esatto e il mio turno meno male sarà questo qua perchè non vedo necessariamente niente tranne potrei vedere un octane e farti un po' di danni all'octane per provare cosa fai di mezzo ai danni giusto? quattro primi non abbia di mezzo ai danni c'è capire fino a pen che monnezza di modello veramente non vedo l'ora che la GW è senza 11 ecco sì non vedo l'ora che la GW decida di di mazzoccarlo per bene non lo farà mai bene fase di comando mia non c'è perchè io non ho cosa fare in fase di comando esatto e movimento e speedrun fase di movimento mi metterà top che vedo di capire cosa muovere allora io devo semplicemente tu puoi uscire dal mettere in sara l'attività e se è un deep strike mettere in deep strike se è un deep strike entrare in questo momento da questo bordo qua e basta perchè c'è il secondo turno non puoi arrivare altri bordi quindi beh da quelli che non sono nella zona dello schieramento avversario e quindi puoi arrivare questo quello lì questo è mio questo bordo è mio boh sei pace tanto c'ho roba con deep strike yes quindi posso solo romperti le scatole con deep strike io posso fare un'azione qui e un'azione qui e ho già fatto la mia secondaria cleanse lo puoi fare anche nella tua cleanse devo farlo qua ma extend devo prendere gli obiettivi eeeh devo rifarne due effettivamente beh in realtà non devo comissare l'obiettivo o no devo controllarlo peccato sennò i cani cosa facciano zero zero sicuramente in realtà se io metto un semplice modello qua con i cani posso fartelo qua in realtà ok sarebbe sacrificare dei cani però è un modello in più per i cani non possono farlo da soli quindi mandaggio ai cani cosa posso fare qui lui quanto ha quattro? si quattro mi è un problema se aveva tre era fattibile forse anche tre ah io non so più come si fa sta quattro attenzione quattro immaginavo fosse quattro l'inductifro sei cioè non l'inductifro l'ingannatore sei tutti gli altri quattro questo edificio è tutto chiuso perché ti sgama allora mi tiri un dado per l'avanzamento delle stealth? devo scaricarlo in realtà dovremmo ora 8 di base quindi non mi servirebbe neanche si o no? tiramelo comunque grazie sei gentilissimo suffering from success allora che pizzo oh potrei allora io devo così ti blocco un schieramento eventuale qua 9 pollici vuol dire potrei arrivare fino a quale obiettivo ma tu questi li muovi avanti non mi serve effettivamente posso andare qua dietro mi tengo qua dietro avanti e stanno qua buon per loro va bene sì perché tanto comunque tu loro poi muovi 6 pollici automatico avanzando sì qui non è un problema quindi questi qua se tu fai il trasporto possono entrare nel centrocampo al massimo il pronostico il pronostico arriva secondo turno secondo turno sì secondo turno adesso è presto per decidere bim bim bom l'opinion is wrong solo controllo sul mio telefono una roba che devo qualificare un valore un valore un valore importante quanto muovi la lista di edizione? ok un valore 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 le cheat che c'è? cosa mi controlla? cosa teme? così ho un po' di reroll non mi serve la proposta da gemma ok guarda non fa l'azione questa posso muovere più in quadri no no mi come stare qua la brozza il muore un qua una brozza il singola un ignorantissima e la margine perché ci piace sì ok questo 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 allora a questo punto si espongono piuttosto che far cazzate per spararti con un termico dovrei andare a metà città quant'è? 9 9 con loro sono 18 12 loro 12 quindi a 6 spai farti un po' di danno e sacrificarle ok 8 sacrificarle che c'è? che c'è? infatti un po' di danno extra mi fa comodo un po' di danno extra? no non in questo momento non in questo momento questo deve stare qui e fare cose importanti ok questo è fare questo overwatch? no non so mi guardai così come dire con gli occhialini che brillano alla alla Conan è il padre di 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 Shinji 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 Mikami è Shinji Mikami no Shinji Mikami è l'autore di videojoki come si? Gendo? Gendo si potrebbe essere Gendo Vikarin Shinji Mikami cos'è? quello di non ho idea non ho idea Musi muletti mulatte cosa? ultimo avanzamento per la Broadside che ti aiuto 3 Gendo giusto siamo bravi siamo esperti l'abbiamo visto l'abbiamo visto ho visto anche anche il Reborn esatto anche il film anche il remake tutto ho visto non mi è mai piaciuto in realtà devo essere onesto non mi piace lo stile artistico del Meccali perché non sono me che ha spoiler assentitelo beh Dio è uscito da quanto? più di 20 anni facciamo 30 anni e magari tipo del 92 se non sbaglio quindi mi sa che gli spoiler sono un attimo scaduti no questo deve stare qua mi scopro troppo e ti sta il monolito se no annaggia il monolito non so dove muovo bene è uscito prima che lui nasce beh quello è sicuro è vero effettivamente vero è sicuro palese bugia ok ma mancano solo i cani a muovere che li muoveremo qua dietro scusa muovono i dodici quando la tira lui fa uno non sai di dadi ok che l'ho finito i miei movimenti e le case esistono qua ti ho lasciato però tanto scoperto qua quindi faremo una cosa più strategica strategica questo fa così quanto mono gli scalpec? 8 abbiamo detto 8 e posso avanzare a caricare? magari quindi 8-18 al massimo e 20 al massimo come carichero più serio non carichero uno perché sono non sono fanteria sì che sono fanteria sono fanteria certo i miei cavallicoli sono mostri no mostri sono un po' eccessivo no loro mi sembra siano gli unici a essere fanteria che distezza allora le stelle fanno l'azione ovviamente su obiettivo e ti sparo due fanteria sì che con cosa? dove come quando? con la riptina riptina ti sparo ok vuoi usare il tuo reattore nuova? no ma il tetra mi fa una spotter così bino tutto tetra dove? quello l'entrificio alla fine si parla l'edificio ahahah non completamente dentro l'edificio ahahah ahahah eh 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 è arbitro è arbitro torci poici di movimento ci arriva arbitro porco caro dai confermo che sono in fanteria si sposti dal tiradi scusa allora sono tutte fanteria tranne il docus iniziamo con i missili stupidi che sono malte sono quattro missili stupidi tutto? boh vai al quattro ripetibili sommandoli 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 faci bene va a uno eh preferivo sta roba con il cannonino forza sette al cinque però ferisce forza dp? meno due danno due dp qua forza niente salve d'un plasmino binato che non colpisce ripetibile colpisce colpisce il 3 comunque ferisce no binato oh meno 3 danno salvo sei colpi ionico ecco questo è già meglio colpisce al 3 colpisce al 4 di base più uno per lo spotting non è neanche cover che scherzo neanche uno perfetto io mi offongo e un colpo di colpo della ecco colpi binato no e della ah della terra di decodio ho capito una pistola frutta 5 bene signore la mia fase di fuoco è finita fase di carica ovviamente ah si aspetta no dai 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 che fighetto eh vai finito il turno finito il suo turno devo rimuovere roba si fino a 4 unità fino a 4 unità rimuoverò fino a 4 così tante 3 più una perché c'è lui ah hai capito sono sgravi il mio avversario ha unità forti sono su più delle mie fammi vedere boh uno è il monolito sicuro non l'avrei mai detto chissà dove metterà il monolito è un posto in cui mi hai lasciato un bel bucone qui in mezzo no allora boh il monolito lo mangio come da buon panettone oh no il buon basettone il commissario basettoni poi altre 3 posso tecnicamente smuoverò le eh ehm ha una base talmente grande posso usarla come cappellino di cappellino e del monolito cos'è? di centimetri? c'è 130 160 160 ti dirò i guerrieri si siamo a 2 si vuoi essere così ehm lui se vuole caricare in realtà si può spostare e far casino tu hai residenza a 9 si che pizza boh ma farò quel che devo quindi in realtà lui può rimanere lì è un'arca apocalisse a questo punto ok ed il quarto non mi serve il quarto buono boh sta roba sarà qua un attimo via ma questo era gratuito o che ha speso in sicuro? no questo è gratuito la mia abilità di staccamento di staccamento di staccamento si eh bravo proprio quelli questo c'è ah ecco questo no questo raggio questi sono indistruttibili i modelli no ecco buono muli turno mio comando non devo fare niente ottengo un cp su una 3 cp che è il numero esatto che mi serve per vincere allora speriamo di no cioè xodia come è l'equivalente di pescare un gambit con le secondarie boh quindi movimenti questo vede la bellissima riptai quindi starà fermo questo si muove di 6 pollici vuoi farmi un bel overwatch ah si 5 punti di primaria già e io ho 3 punti di secondaria più 5 8 eh no 5 di extend e 3 di cleanse eh scala eh chiede ricordarmi di dargli i punti se no mi dimentico non so se sono scemo allora stavo guardando il mio versaglio che mi stava confondendo con questi movimenti questo sta fermo perché così c'è devastating quell'altro si è mosso mi sa che questi li muovo un po' così sei pronto per i trick le secondarie fisse si le secondarie fisse il mio versaglio ha e assassinate e bring it down e qui ha questa secondaria ok quindi fase di rinforzi aia io gioco con la basetta ampi eh ma a me sembra questa basetta eh se via tra poco lo so lo so 9 pollici eh ciao ho qualche sospetto compare qualche sospetto diciamo esatto questo dopo di che facciamo facciamo no lì al massimo qualcos'altro possiamo mettere subito gli scorticati mhm possiamo metterli in borta che parte anche abbastanza x 2 e 6 dopo vedo se sono 9 9 da qua un po' oddio così mi va bene così così dai tanto sapere 9 pollici se dopo di che i cecchini mancano ma prima facciamo il trick con il monolitto spenderò un cp per farlo arrivare a 3 pollici oh ho bisogno di un attimo di rispondere l'arca è un po' fuori effettivamente sai che non riesci mettere l'arca? perchè devi stare dentro 6 pollici al bordo la metto nell'altra verso no poi c'è i cani dopo ho paura che ti bloccano e allora la metto dopo dopo che l'ho fatto il trick va bene? grazie no perchè mi hanno fatto un tare dalle armi mi devo sennò si va bene eeeh attacca Lucis non teca Renè Lucis? si mannaggia Lucis io sto guardando il monolito e Lupo Lucis Lupo Lucis mannaggia Lupo Lucis eeeh a voglia ci stavo dove? dappertutto adesso vediamo ci sta più che altro non deve starci lui deve starci un'altra cosa lì deve starci i guerrieri? no ma abbastanza e abbastanza spazio per fare quello che devo anche quindi apposta quindi mette lo scafo che voglio si guarda come con le mannine unte me lo tocca adesso untissima proprio guarda che brutta persona mi si è messa qua comunque no c'è un un po' indietro c'è il tetra qua che blocca perfetto ottimo bene così si però la volta che tu fai scendere deve stare in ah no no fuori dall'engage che cosa? non può caricare a meno che non spenda 2 cp ma lo carico a spessare si no è la regola del coso del monolito tocco e rimetto perchè non arriva come riserva ma arriva come sbarco? come funziona? li posso piazzare entro 6 pollici da lui non in engage nell'entrenza dell'avversario posso togliere dal coso e mettere e tu devi spendere 2 cp poi per a farli caricare adesso farò un bel lavoro cierei io se vuoi eh si mi conviene quando hai vinto comune 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 quando i fiti di muoverli approfitterai Qua sono i ligni. Comunque Lucis chiede di rivolgersi a lui com'è il judge. Ah va bene, il judge. Mi scatto di metterlo leggermente più lontano a lui. Ticami a metterli qua perchè mi sa che qua non riesce ad essere tutto in coesione su un P5. Direi due modelli in coesione. Due e due. Questa è troppo più larga. Aspetta così. Vediamo. Posso sempre succedere un modello. Mi serve il cosetto. Questo è un pollice. Si, quello è un pollice. Magico. Così. Un po' più indietro. Beh, posso sempre rimuovere le cose davanti al massimo. Posso sempre mettere ancora più indietro il monolito. Non è che mi serve così tanto spazio. Spazio. Mi basta. Mi basta. Che succede? Si è incastrato? Si, si è incastrato sui stessi assetti maledetti. Se vuoi te lo alzo. No. Mi alzi già. No, quello fai tu dopo. Quando... Mi fa una multicarica impressionante. Tanto tu ti puoi disingaggiare e sparare. Solo con le bronzade. E con Showson. Mi spari in corpo al corpo. E via. Perché così siamo comunque entro sei. Se vi ha voglia. E così. Siamo tutti entro sei. E per schermo ti zappo le zinze. Ecco. Mi zappi le? Le zappe. Ah. Adesso posso fare il power watch? Se vuoi. Con chi? La Rift Tide. Quella davanti. Ok. Non posso riscaldare. Perché credo sia solo nella mia fase di tiro. In Showson. Esatto. Bene. Mi cale il CP. Cosa vuoi? Niente. Parlo io da solo. Si sposti. No. I missi detti dei droni. No. Wow. Il plasma. Wow. I cose. Le cose importanti. Due. Però. Due. Sono già buoni. Forza. 8. E allora il 3. E uno solo. BP. Io non mi credo niente. Uso un reroll e al 5 più recupero con Showson. Ferito. Ehm. Ferire. Il secondo. Ehm. Al 5 più recupero con Showson. No. Quindi ho spero 2 CP. No hai detto al 5 più era il 6 che hai fatto. No. Era il 6 per ferire. Al 6 per più. Vabbè. Hai detto al 5 più lo recupero. E ricupro al 5. Posso recuperare anche l'overwatch? Cos'è? Questo. Eh no. Comunque poi comunque recuperando solo uno al massimo. Posso tentare e recuperare uno al massimo. Ah. Perché hai trassato. BP. Cos'è sta roba? Meno 4. Meno 3. Se lo scordo subito. Sì. Comunque anche. Anche altro. Posso recuperarlo. Meno 3 danno 4. Vabbè essere. Sì. Meno 3 danno 4. False. No. Due morti. Due morti. Alla. L'Azardus. Salvo. Vedo se hai recuperato il CP per l'overwatch. Sì. Resto 2 CP ora. Ok. Non è un grosso problema. Un coppo. Anche perché adesso migliori la coesione. Sì. Or dunque. Togliamo quelli dietro. Perché non hai più bisogno di secondo uno dell'inquisizione adesso. Esatto. Facciamo più. Però è una voce che si è riparato. Ancora sicuro. Quindi questi andati. Devo ancora fare i guerrieri. Non iniziamo a fare robe altre. Dobbiamo fare i guerrieri. Sì. Permetto un po' di metri. 9. 6. Lì. E poi quelli lì che do. X. Sì. Più o meno il suo punto. Guarda. Sono tutte un'unica unità, no? Cosa? Quei due? Sì. Un'unica unità quei due. Mettono a pollici, vai. Dai. Di trucco lì. E' che sto pensando se ha senso che li metto qui. Perché lui li avevo fatti uscire, visto che hanno dipstri che possono arrivare dove vogliono. Però devo vedere se ha senso fargli arrivare. In Assemble. Partita for fun. For for a for my fan. Esatto. Lancia lancia, accetta d'accetta. Uh ah ah. Gen gen da pa pa, ben ben. Colpiranno in pochi però. Eh già. Quell'unica roba. Quanti sono 20 giusto? 20P i personaggi. 20P i personaggi. Ma i personaggi puoi fare abilità e quindi a posto così. Ti indica malissimo. Puoi comunque assaltare con loro. Con loro posso comunque assaltare vero? Bravo. Però la possibilità del plasmante è entro 18. Quella che i dead shroud conoscono bene. Intanto quella regia è certe punto medio indicando il mio avversario. 18 pollici, sì. Ah. Quante ferite hanno i tetra? 7x7. Qualcosina si può fare. Dai. Laserino ancora. 1. 1. 2, dai. E. Che però. 6. Così. E ancora uno qui. Così spareranno in 6. E il resto li buttiamo tutti sull'obiettivo a questo punto. Bene, questi sono fatti, dovrebbe essere tutti eventi, mi sono stati passati questi, e poi al massimo i necrocecchini, che però adesso hanno poco senso, quindi ti direi che possiamo finire qui la fase di movimento. Bene, aspetta, fermo per devastati, mosso, arrivati, 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 arrivato, bom, vai, fine, fase di tiro, perfetto, no, va di va di, mi dica, fase di tiro muli, allora, poi iniziamo qua con i guerrieri, che ci piace, aprimo l'abilità del plasmante sui tetra, 4 dadi ogni 4 più una mortale, una mortale, ok, Dopodiché sparano, tutta l'unità spara sempre sui tetra, quindi sono, visto che 6 riescono, sono 12 colpi, al 4 sono stati settati, quindi bianano tutto, i 5 più autoferiscono, ok, quindi questo, 5 più autoferiscono, si rende conto, questo era in bilico, ok, E fossero pochi attacchi, no, sono secchiati i dadi, se fossero tutti e 40, ma volentieri, quindi, sono, 6 autoferite, queste feriscono al 5, 7, BP-1, c'è in cover, quant'è di amatura? 1 è già ferito con 1, no, la ferita, il mortale si applica alla fine, è un'abilità, non è un attacco da tiro, questa è l'abilità, quindi applicala su uno dei due, su chi? Qui avanti, ok, quindi altre 4, ok, sono 5 rimane di 2 ferite, si applicano al fine dello stesso step delle stesse armi, l'arma del personaggio. L'arma del personaggio arriva adesso e fa plasmante tre colpi al quattro. Posso anche rimettere questo intanto. Tre colpi al quattro abbinato tutto per la stessa abilità. Sanno due. Sanno tutti. Forza a quattro quindi al quattro. Uno. I primi erano tre e danno due. Due danni morto. Due punti vittoria per quello. Due punti per bring it down. Arca apocalisse spara sul devilfish. Con la puntina del cannoncino. La puntina del cannoncino non ci arriva con l'ami secondaria. Mi sa. Quindi. Sì sì. Assolutamente lo vede. D6 più uno. Colpi. Cinque. Al tre. Ne vanno tre. Ferisco al due. Forza 18 giusto? Al tre. Senza 10. Ne ho fatti due. BP meno quattro. Quattro danni. Controlo solo. No vediamo mi scherzavo. Quanti? Due. BP meno quattro. Quattro danni. Quattro danni. Quattro danni secchi. Quanti ne hai in totale? 13. Ne ho ancora otto. 9 allora. 9 sì. E appunto non penso di essere ingettato delle armi secondarie che sono 24. E invece? Sono dieci colpi. Va di. Dieci colpi. Qua sono cinque. Qua sono dieci. Al tre. I sei autoferiscono. Sono quattro autoferite. Io mi oppongo. Tutto questo colpisce. Io mi oppongo. Ferisco al sei. Quattro salvezza da P0. Quattro al tre. Vai. Due ferite. Due ferite. Marco lo sette. Poi. Tan trascendente spara ai. Riptide? No ai. Cani. No. Anzi. sì. Arca apocalisse spara su tutto sulla Riptide. Ok. Eh. Io non ce l'ho più i CP. Scusate. Manca due. No. Gli usai sì. Ah. Per sicurezza dico subito di averli spesi. Ok. Non ci arriva in corte quelle armi? No. Le armi sparano sui cani. Ok. Quindi mi spende cosa per tu? Due CP per già adesso per dopo per sicurezza che non mi dimentico. Quindi sono i dieci attacchi sui cani che hanno stealth. Sì. Dieci attacchi sui cani che hanno stealth. Quindi al 4. Uno autoferisce. Due autoferiscono. Due. E gli altri al 3. R3 sì. R3. Vadi. Quattro salvezze vip zero. Al 6. No. Non credo. Anche il 6. Sai che lui rimane anche matura. 6. Vai. Vai. Non è un 6. Una. 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 Mi cambiano un po' il 6. Sì. Mi cambiano un po' il 6. Che schifo. Va bene. Ma la pelle spessa. Mi cultisti no. Hanno la pelle spessa. Ma i cani sono canissimi. Hai detto tutti tutti. Ma niente. Eeeh. Cosa? Qua? Apocalisse. Quindi canone. Disse più uno. Sette colpi. Io non ho parole. Io non ho parole. Non hai chiesto un valore sotto i quattro. Sette colpi al 2. Visto? 3-1. No. Sì. Mosso. No. Mi sono mosso il mio turno. Adesso è stata ferma. Sì. No. Ok. Sì. Ma fossi mosso il primo prima. Cioè il tuo turno qua. Nel turno prima. Nel primo turno. Ok. All'esistenza al 9. Al 2. Sono 8 danni di devastanti e 2 vulnerabili al 4. 8 devastanti. 8 devastanti. 8 devastanti e 2 vulnerabili. Io non gioco più con te. Io non gioco più con te. Ho fatto 3-1 per colpire. Non c'entra. Io non gioco più con te. 2 vulnerabili al 4. Fatto. Mi mancano? Eeeh. 5. 8. No. 6. 6. 6. 1. Resistenza al 9. Il mio K-Tan spara al... No. Io non so. Spara tombini. Spara al mio K-Tan. No ma il mio K-Tan sparerà. Sai chi? Sì. Alle go skill. Cioè le go scose. Va bene. Ci ho visto il difficoltasse. Sono 6 colpi. Io non ho parole. Io non ho parole. Perché c'ho forza 8. Avessi forza 9 l'avrei fatto sulla Ripple. Sì. Sì. Al 3 perché hai il meno 1. Ma smetti agitaresi i dadi in cincrofono. Zitto. Colpisco con 5 e genero 2. Al 3 meno 1. Al 2. Ah. Al 2. Ok. Al 6 i dadi. Ma se lo faccio per 5 secondi di obolo. Dai. 5 salvezze al VP meno 2. Sì. 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 Danno di 3. Meno 1. Poi si in cover. Va bene. 5 salvezze. 5. Hai 4. 1. 1. Quindi un amore. Danno di 3. No. 2 ferite. Hanno 2 ferite l'una. No. 1 ferite. 2. Ah. 2. Va bene. Allora tiro. Hanno 2 ferite. Su chi lo applichi? Su uno sfigato. Va bene. Che muore. Ecco. Non si fida. Non si fida. Non si fida. Non si fida di me. Non mi fido davvero. Allora. Monolito. E non sono un veicolo. Ricordalo. Quindi non tirano il bring down. Perché sono armature piccole. Sì. Sono fan terioso. Monolito. Su chi spara? Monolito. Solo la Broadsway può ingaggiare e sparare. Massimo mi spari? Anche le Riptide possono disingaggiare e sparare. Non me l'ha detto prima questo. Ho detto solo Broadsway e Riptide. Forse Shadow sarà anche. Non me l'ha detto. Sì. Vabbè. Bon. Non è dubbio. Monolito. C'è i cannoni della morte quindi. Il Broadsway c'è l'invulnerabile? No. Non può averlo. perché è scemo. Ma ma tu hai due. No. Tra un film no pen e quattro contro i mortali. Figo figo. La Broadsway. Non la rotica. Non so chi abbia scritto quel profilo. Leccia. Leccia Stealth. Non solo le operative. Stealth. Stealth anche. E la Broadsway dà l'esistenza? Sette. Sei. Sei. Sei solo. La Broadsway. Sì. È una crisis più grossa. Sei. Sei. È a dieci. Ferite. Boh. Che se ne frega. Questa particelle su Shadowson. E tutti i laserini su una borsa in davanti. Laserini. Altre. I sei sono di tre colpi addizionali. singoli. Chissà di. Speremo. Vanno tre. Genero di tre colpi addizionali. Tre colpi addizionali. Tre colpi addizionali. Sono sei colpi di laggio della morte. Resistenza della brucia che abbiamo detto. Sei. Al due. 5 salvezza al 6. Quanti danni fanno uno? Di sei più uno. Non potevi fare i mortali almeno. Ho salvato uno. Fai quattro di sei più quattro. Quante ferite ha lui? Dieci. Morta. Morta. Perfetto. C'è ciotto dati. Io non ho parole. No. Dio. Il membre. Dieci. Quindi altri tre punti di... Io non ho parole. Mi sento veramente... Tre di sei colpi di frusta e particelle su Shadowson. Quattordici. 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 Almeno uno. Giusto? Al quattro. Ma almeno fa devastante. Non ha filo pelle. La crozza li aveva. C'era il vulnerabile. Sì. Ecco. E allora. Eh ma se fai devastanti lo ignori. Ti ricordo. Appunto. Quattordici abbiamo detto. Quindi al tre due. Al quattro. Perché con il tre di base. Vai. Ok. Eh occhio. Aspetta secondo. Ricordi che hai meno una frilla. Sempre. Ah così? Sì. Forza. Resistenza? Dimmi quattro almeno. Quattro. No. Ti fresco al tre allora. Eh. Muli. Eh. Come si dice? Devi colpire? Sì. Al quattro. Boh. Almeno hai colpito con una media quasi decente per una volta. Sotto media al tre. Alterisce al tre. Al tre. Peccato. Guardi. Quante ferite ha lei? Sono due danni devastanti. Sì. E tre salvezze di più o meno. Uno. Tre. Ah. Quattro. Vedi. Tre. Tre. Quanto hai di ferite? Poche. Sei. Sei. Va bene. Vai. Non ha già i dati. Ti picchia. Va bene. Scusate. L'hai usato prima per... No. Era un'altra fase. No. L'hai usato per l'Overwatch. Ah, sì. E quanti danni sono? Due danni. Ne ha già subito i due. Lo so. Ridollo. Di ADC. Io non dico... Che ti hanno dei dadi buoni, ma... Mettilo per mezzo. Ma io pensavo... Una pittura verde. Io dipingo il pallino più del set. Io pensavo... Spendiamo un euro quaranta dado. Stampiamo un set da venti dadi. Permesso. Quanti sono? Venti questi? Persino per Giovanni. Dove facciamo stampare? Solo il... Uno, due, tre sopra. Basta. Criamo dei D3. Sì. Esatto. Ehm... Questi. Sì. Al dieci sul... Al nove. Al dieci. Dai, no. Sì. Stelta! No. Sai che i dadi, eh. Ehm... Multicarica dei Tizzi Kai. Sì. Su Shadow Sun e... Riptida. Riptida. Sì. Carica da tre pollici. Ci la fa. Ehm... 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 Allora... Allora... Abilità delle Devastanti del Scorpio che andrà su Shadow Sun. Faccio. Sette pollici. Plum... 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 Ti dico sub... Dico subito, prima di dimenticarlo, userò il Prasmacita per darmi Devastanti alle cose. Sì, sì. Perché mancava. Perché mancava... No. Quello che mancava è l'abilità delle ferite mortali dello Scorpio Lord su Shadow Sun. Io tiro un dado perché so che devo tirare un dado. Cos'è questo, scusa? Devastanti su Shadow Sun. Per la carica? Per la carica di tre mortali. Di tre mortali così? Sì. Secche? Di tre mortali. Al quattro... Due, cinque, di tre. Al sei, tre. Ah, penso sia già di tre questo, ok. Vai. No, no. Di tre. È morta. Morta Shadow Sun. Quattro punti di Assassinate. Non è mostro veicolo. No. Ok. Quindi... Tu non puoi interrompermi. Partiamo subito contro la Riptide. Quindi sono... Quattro colpi di mannaia. Mannaia, mannaia. Quattro colpi di mannaia al due. Ok, vanno tutti. Ferisco al tre. Forse a dieci. Forse a dieci, sì. Però... Tecnicamente il Devastante viene dato a tutte le armi dell'unità, quindi anche su di lui. Grazie al Plasmicita. Sì. Sì. Quindi al tre. I sei sono tre danni. No. Tre salvezze a meno tre. Al quattro. Milico. Tre danni. Tre danni. E adesso i quattro Scorpec rimanenti. Sono... 16 attacchi. Al tre. Visto che hanno caricato, binano tutti i tiri per colpire. E grazie al Lord Scorpec hanno colpi letali. Sì. Sì. Non sinergizzano le due cose. Ma posso fare prima di tirare? Dio buono. Sono... Letali? Quattro letali. Ripeti tutto? Eh... Ti dirò che... Ti ferisco dal cinque dopo. Li tiro queste. Questi mi ritengo. E queste al tre di nuovo. Una letale. Un'altra letale. Quindi sono cinque letali. E questi al cinque. I sei sono danni due devastanti. Due danni devastanti. Due danni devastanti. E in totale cinque da salvare. Vi rimanono due. E quattro. Quattro danni. Altri quattro danni. Quindi in totale a nove. Nove, sì. Ok. Tan trascendente. Tutto sulla... Tutto sulla Riptide. Che gli mancano quante sei ferite? Sì, sì. Qui la mancano sei. Ok. Otto attacchi. Ti ferisco al quattro. Ah, otto attacchi al due. Vanno sei. Uno lo genero. Al quattro. Quattro salvezze. Almeno. Va uguale. Tre. Due. Quanti danni? Due di sei. Otto danni. Vediamo si esplode. Vediamo si esplode. No. Ovviamente. Quante ferite ha? Quattordici. Quattordici. Quindi altri tre punti di Bring It Down. Il cane può rispondere. L'altro Riptide può rispondere. E per il resto... Ah sì, volevo... Mi sono identificato. Quindi faccio. Peccato che mi ha aiutato un po' che cagare. Se gli attacchi di Riptide... Credo vanno al cinque perché almeno... No, vanno comunque al cinque di pause. E se li potenziate? No, ignore tutti Malus, lei. Ok. E per colpire. Forza? Forza sei. Quindi tre. Danno due. Io c'ho l'esistenza a sei, quindi due. Ah ok. Sono cinque. No, cinque sono... No, nessuno. Cinque sono gli Ophidian. Eh, BP niente? Comunque no, ignore solo quelli da tirare Malus. Un altro morto. Il cane può rispondere. Wow, aspetta. Te la attacchi il cane. Colpisce. Te la attacchi il cane. Aspetta. Tre. Uff, tiratura. Aspetta, il cane fa il danno. No. No. Anzi sì, in realtà. Perché non c'ho quattro a chiudere matura. Fino appena al cinque più. No, ci ho sperato. Ci ho sperato. Bene. Fino a turno tuo. Fine turno mio ho fatto quel che dovevo. Sì. Sono... Ti ho ucciso... Un... Sì, 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 sì. Giusto. Perché sono... Tre. Tre. Due. Sì, sì, sì. Bene. Sì, sì, sì. Bravo, bravo, bravo. Turno mio. Turno tuo. Un CP, un CP. 10 seconda... Di primaria. Perché 10? Tekkenhold è anche sul... Base, no, solo sul... No, no. In effetti sì, anche su tutti. Punto, allora. Pesco. Defend stronghold. E bring it down. Ok. Bring it down. Fatto. Butter shock. Butter shock. Cane. Chi dove l'ho cannato. Ok. Crysis mi sa. No, riptide. Cioè sì, quel che c'è. Cannato. Cannato ovviamente. David Fish. No, ancora 7. Nella quattrici base. Allora. Basta. E altro, sì, l'ho fatto. Bene. Ok. Movimenti. Pum. Comando uno o altro. Movimenti. Movimentati. Allora. Questa. Tiro di acqua. No, no. Tiratucca. No, lo tiro per il cane. Per cosa? Desperate. Desperate escape. Cane scappa. No. No, no. Cane scappa che straparlazza. Sì. Ma perché devono una fase comando? Ho già fatto la fase comando. Sì. Ho detto no, niente. Sì. Infatti si aumentava di quello che non c'era la fase comando. Eh, ci spiace. Ci spiace. Ci spiace. Ci spiace. Si spiace. Non è che ci saranno anche le altre fasi, eh? Boh. Quanti punti ti ho tolto? D'accordo. Abbastanza. Ok. Abbastanza. Non tantissime abbastanza. Allora. Dobbiamo in generale molto danno qua. Quindi uno, due e tre. Ok. Uno, due. Tanto attento che la ripetade deve fare il desperate escape. Non si muore la ripetade. Ok. La ripetade se ne frega. Intraprendente. In questo momento se ne frega. Ho detto che ho defend e bring down. Ok. Distruggimi un veicolo, un mostro. Il monolito vale sei punti in questo momento. Per te? Hai un massimale? Otto che quindi presumo... Sì, otto. No. Otto più uno. Cioè il massimale quant'è? No, il massimale è otto più il monolito. In questo momento sono due più uno perché tattiche più tre per il coso. Quindi sei in realtà. Per il massimo allo devi uccidere... Beh che poco. Oddio. Oddio. È il massimo che puoi fare in un colpo solo. 22. Esistenza 13. Dove più un armatore? Con un cp al 4 più. Perché mi guardi così? Con un cp? Devo usare il mio cp. No, vabbè, io sto giocando un vesto e c'era la delca. Mamma, tu non hai idea di un po' di odio la delca. Tu lo puoi solo immaginare. Tu lo puoi solo immaginare. Aspetta che quale ci sono. Ma speriamo che ti diano un po' di amore, sì, con sto coso dei sorchi. Aspetta mentre lo tiro, sostenere di tu. Che bello sarebbe. No. Che bello sarebbe. No, no. Come facciamo tirare i dadi a degra? Tutti i due. Due. Ma se tiro più dadi ce la farò. Devo solo tirare più dadi. Oh, una sete. No. Anch'io c'ho sete. Devo indaltarmi di più. C'è la ciotola. C'è qua. Preparo una ciotola anche per te. No, sono un po' di venire. No, sono un po' di venire. No, beh. Posso arrivare qua. Che sono un po' sul tavolo. Però ti mancano ancora delle robine in deep strike. Questi sono morti, purtroppo. Mi rianimo. Perfetto. Eh, mi sono dimenticato la regola del museo, scusa. Cioè? Mi rianimo, quindi il mio scopio che tecnicamente ritornano. Tecnicamente. Tecnicamente. E' vero questo momento è proprio come stare. Esatto. Guardali. E' il momento di usare un po' tutti i sbarazzini. Allora, io devo impedirti di avere questo obiettivo qua, quindi... Impedisca, impedisca. Così. Poi così tu non riesci a stare entro tre da questo. No, in realtà poi tanto dopo posso fare... Quanti CP ho? Due, giusto? Due. Io ho uno. Due CP. Vediamo i dodici. Dodici. Devi stare un po' qui indietro. 12. La cosa che mi fa stare a dire è che il momento fa un male vestito. Quanto dopo. No, no. Posso stare qua. In caso posso poi fare i CP. Ok. Poi abbiamo altri movimenti. I cani qui in fondo. Colpisce al due. Il monolito in colpa-corpo. Vabbè, non può mancarti. Allora, potrei fare entrare un po' di riserva. E' in ottava edizione. Bella dimensione di un granaio. In ottava edizione faccio in automatico, mi sembra. In ottava ed in nona. Tutti sul monolito. Non tutti sul monolito. Vedremo adesso. Questo ho due opzioni, ho anche il ctano in caso. Ok. Poi ho un altro piragna e un po' di commander. Commander quelli entrano sicuro. Google commander. Tutto là. Non tutto qua. Tutto mio. Corretto. Io ho paura dei guida. Eh, mi fa paura a questo. Chiamassi anche... Faticamente. Mi serve un... Spendere due cpi... Per un vulnerabile. Chissà dio. Mica siamo tirani. Questo cavo giro d'opsezione. E quindi là sono i morti. Il generale chi era? Il generale è il commander che è lì. Ok. Dove essere lui dopo controllo, ma dove essere lui. Ok. Forse la Showsan. Forse la Showsan. No, la Showsan per gli obbligatori e la Showsan come generale. Cosa? Questo è un obbligatorio. Sì, obbligatorio, infatti. Quindi Showsan, è vero? Il Showsan è proprio un po' di attenzione. Già. Ho ancora un tetto. No, ma il mio tetto è più vero. Tipo se lei ha saltato. Io... Sì, è vero. Kamikaze del... Di pubblico nostro, un gold 5-4. Difference 3. 3. Che numero di merda. E' buono. Idealmente il monolitro deve saltare. Gli Scorpec potrebbero saltare? Eh già. Posso tentare un Ten Shock con quello? E' ora di fare sì. Sì, il coso. Chi vince. Però il monolitro è towering, quindi comunque lo vedo il monolitro. Sì, il monolitro lo brecchi. Non è questo ha senso. Riuscirà a sopravviare più di un turno il monolitro? Scopriremo. No, questo li si riserva ancora. Dividimi l'ordine del riservo, te prego. O solo lui gli si riserva. Basta. Non altro gli si riserva. Ok. Movimenti finiti. Posso fare il tiro? Movimento finito può fare il tiro. Allora. Muli. Cos'è facile? Che femo. Cos'è facile? Il tetra spot al commander con la sua unità il monolitro. Quanto anno devi più abbiamo il monolitro? 1 di base e meno 2 di riscaldamento. In piaccia meno 3. Sì. Sono in cover, quindi. Tieni la cover per quei marker. Ma neghi la cover con i marker? Tutto quello che ha markerato neghi la cover. Toccherà a spendere il suo cp per invunerabile. Il suo cp? Il tuo unico cp? Perfetto. Più possiamo far durare meglio è. Spende il mio cp Regian. Sì. Allora prima di tirare i rai devo cercare come dividerli. Allora il commander ci riscalda tutto e ci riscalda un unico Ionico del crisis. Ionico Ionico, vai. Quindi il commander si riscalda tutto. Tira i suoi. Tira i tuoi. Al 2 ripetibili al 6 in genero due colpi. Direi ne ho usato i ruoli a rapida. Sì. Ci provo. Guardi io lo le a gufo ma punto tutto sull'equo. Un genero 3. Appesso perdo. 6 in tagli in più. E te lo te colpiscono. Questo è un forzotto quindi al 5. Ecco, non ripeto niente. 1. Bene. Ma questo era solo il coso. Sì, questo è il commander. E quello fa meno male in questo momento, mi sa. Aspetta, ti do ancora l'altro ionico, che è uguale. Poi colpisce il 4, è il 3 perché ho il marker. Due colpi in più. 0. Perfetto. Che cool, è un 5. 2. No, danni. 2. Ok. Facciamo che... Vabbè, insieme, facciamo le cose giuste. Casma sono... Allora, poi ho gli altri ionici, sono altri 5 ionici. Non si è scaldato. Deve fare anche il riscaldamento. 5 tiri. Gli altri 5 ionici. Con un cpivo devo darti hazard sotto tutte le armi. Mi ripeto un po'. Ma io ho già speso tutti. Posso darmi a un'unità che mi spara in 24... 12 da un titanico. 4. Quindi con lui che ha quattro armi a modello... Fa male, sì. Però mi sa di averci più. Anche questa genera 20 ordici. Anche questa genera 20 ordici. Ok. Al 5 sempre. Forse di senza 14? 13. Alla 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, almeno uno danno uno. Sì, sono dietro. Non so quanti dati. Quanti? 6 almeno uno danno uno. Ah, perché non hai sulle scaldate? No. 6 almeno uno, quindi al 3. Entrano 4. Aspetta, questo era al 2 perché... Il tiro più importante è questo. Questo era al 2 perché mi avevi fatti 2 prima e quindi così. Dolci plasmate. Queste sono quelle danno 3. Devo fare tanti 6 queste. Voglio tanti 6, ragazzi miei. Beh, non te ne servono molti in realtà, eh. Cioè non è che ho così tante ferite. Ne ho 4 in più. Quindi ti ho 10 plasmate dentro. Al 5. 3. 4. Almeno 3. Quante ferite ancora? No. 16. Non ne ho ancora tante. Molto più di vulnerabile. Sei ferite dentro. Sei ferite dentro. Ah, qui sto 10. Già sotto la metà. Ha fatto ciò che vuoi. Siamo trovando un timing tipo tante. E Hazardus? No. Prima ne trovo. Qua. Ok. I 5 Altherus. Posta. 2 CP e Mowler Crysis in via. Di 12 pollici. Ok, quindi sei anche tu a 0 CP. Oltre 11. Si. Lo vero qua dietro ho fatto. Sto aspettando. ok poi stealth su e allora stealth fanno da spotter alla alla la crisis eh la crisis alla daily fish scusa uguale sì due missili no non ripeto per colpire ma ho il primo colpire e ripeto ognuno preferire due missili cercatori al tre ok pulse oh sì una cartellina 6 colpire la cartellina la cartella colpisce con tre attracchi al 6 che viene aggiunto monti armatura al 2 4 colpi pulse dove sono in realtà perché lo siano in corta sono sempre in corta quelle sono binate anche eh sì dove essere binati anche quindi sono due o quattro colpire uno questa roba di binato alcune volte hanno rimesso hanno rimessato alcune volte no quindi due colpi assalti il pc uno che binato però fuorisce comunque si fa una ferita poi ok il termico della stealth al 5 no ovviamente perché non possiamo parire se non vedo se non vedo il muro ok no questa c'è la finestra scherzavo vedono guarda sì vai 4 8 colpi il più al 3 no al 4 scusa non sono marcherato non genero niente perché non è terzo turno sì esatto forza 5 al 6 o al 1 al 2 no eh ok indispensabile manca tetra broadside la riptide fa da spotter alla broadside ok e railgun mi nevi cover cosa? mi nevi cover no perché non i droni quindi questo non tiene cover ho messo allora la broadside due colpi e tre ok e due forza quanto può avere forza un reagan che è l'antibi sì lo so che è 12 al 5 però mortali mortali fa di 6 più una mortale sì 5 mortali 5 mortali visto? rimane a 4 ferite al 3 colpisce pochata non sia ferisce forza 4 più di vulnerabile no di 6 più un danni questo è importante signore perfetto due danni perché dagli un re-roll contro i veicoli quando può tagli un un fino appena ai 4 momenti mortali vai adesso guarda come scompare un quarto la riptide sì sui tuoi scemi sui scorpiac vedi 4 colpi miceli al 5 ok un colpi plasma e 4 sì meno 3 danno 3 poi non meno 3 danno 3 sì no morto no 4 6 colpi che su riscalderò si sentono devastanti del ionico dell'ognorri vai a zardus anche comunque che bello questo è un bel tiro signori sì ferisce al devastante devastante vieni dopo sono morti mi sa sono 4 ferite l'uno no quante ferite rimane al lord 4 danni l'uno perché sono riscaldato si riscaldato forza forza 12 no 8 8 quindi in realtà 1 ancora 1 devi salire prima 1 va sull'unità che muore e quindi sono 4 e lord vanno 8 vanno 8 ferite su lord conta si mi sa che è morto no cioè è la riptide più figa della storia visto un addardus che non fallisce 7 ferite no codice broken arrow un uoco sulla mia posizione da se stesso la ripeto su riscaldiamoci boom questo è un be questo è una bella cosa visto vadi questa è una gran bella cosa ok adesso ti arresto allora le stelle ti fanno da spot il primo commander sul tuo tang tang si vadi il mio commander ci riscalda tutto ok dodici colpi non c'è per questo no c'è per questo anch'io ma manca il cp per farlo perché non c'è shoutsan per recuperare il cp non su non genero ma colpisco il 2 ti nego cover e ripeto gli 1 per prima ripeto gli 1 per prima va bene forza 8 al 5 bene al 1 1 e sono 1 2 3 4 5 5 almeno 2 danno 2 danno 1 si per i dulci 4 pini vulnerabile passa 1 un danno 5 pini fino a pain no un danno 4 zardos 3 farite signor commander ne ho ancora 7 cavale ne ho ancora ancora 5 3 no 4 ne ho ancora 4 ne ho ancora 7 di base scusa 7 quelli droni 6 di base più nel drone yes le stealthy sparano quindi il termico colpisce ok e il termico fa male perché incorta questo ferisce forzotto questo questo cos'è melta 2 melta 2 sì quello sfigato e cosa più vulnerabile salvo la mitraglietta sì comunque forse no il termico comunque sì sommandoli sommandoli neanche perché secondo commander allora i tetra spottano invece il secondo commander ok no i tetra spotteranno al piragna sì spottano il piragna i tetra mi interessa di più piragna termico colpisce ovviamente il termico 24 non deve ferire i due misti cercatori ripetibile colpiscono entrambi oh dai il commander in fondo il commander in fondo 12 colpi ah sei l'altro non sui scaldali tanto cambia niente sui scaldali ci penso perché no per ricordarmelo ma hai detto devi dirmi tu stai tirando dadi ma guarda non cambia niente è inutile scaldarli non devi io subisco e via sei un'altra persona e ti becchi quattro armature quattro vulnerabili wow due ferite due ferite al 5 più le salvo no due ferite wow puoi caricarlo aspetta no io ho finito tutto non posso farlo altro posso caricare il monolito in realtà cosa che farò colpisce il 2 scusa colpisce il 8 meno 2 3 danni no mi sa che non caricherò colpisce il 2 quindi è finito che non poter fare altro ok puoi caricarmi puoi caricarmi quei cani il guerriero no 6 attacca 6 al 2 più 8 meno 2 3 danni allora bring it down potrei fare il prossimo turno per 6 punti defenstrongled la scarto ah boh adesso ho il 3 scusa scarto defenstrongled per un cp ok quindi fine del tuo turno turno mio si io ho un cp tu ne hai 2 fai 10 punti vittoria 10 punti vittoria batteshock sul monolito non mi interessa usare statagemmi quindi batteshock sul monolito e su nient'altro in realtà passato già reanimazioni tan 2 recupero la 2 ferite il monolito una vabbè tanto il monolito è morto adesso il monolito potrà stare qui a fare il suo bel lavoro quindi questo torna a 11 no scarto dei defenstrongled non è completato ah si fine del tuo turno voglio rimuovere qualcosa quello adesso si muovono e caricano quello starà lì perché vuole far casino questo sta fermo questo sta fermo questo li posso rimuovere col monolito ne è rimasto molto altro e quindi no faccio quel che devo insomma bello quindi no alla fine del tuo turno non serve che muovi niente 10 di primaria perché ho due obiettivi movimenti perché comando non devo fare ho fatto battesho ho fatto le animazioni va di movimenti le arche apocalissime rimanano ferme per avere succoso devastate i muscol con le bellissime crisis cazzo ma le vedi vero? eh si ma sicuramente non vedessi non so perché la brain fart si abbastanza questo rimane fermo questo è un problema boh vi bisogna vedere cosa faccio questo rimane fermo perché mi fai overwatch e ho paura c'è c'è gli hai molti overwatch no grazie è un posto così questi si muovono si muovono di 5 o di 6 spero che essendo di corpo a corpo si muovono di 6 ma tanto una carica dovrebbe essere abbastanza easy comunque non trovo le regole non ci sono le regole le hanno spaccate sul momento sui scorticati sono i mossi sono le gent se non saprei grazie quindi dovrò fare una carica di 4 scortici scorticati buongiorno signori overwatch no sicuro poi qui abbiamo detto Adamo Adamo si Adam mi ha sparato i suoi missili cacciatori cosa mi ha sparato i suoi missili tutti hanno sparato i missili cacciatori non ne ho più neanche uno non demmelo con questo tono ne ho ancora due qua si esatto tanto arriva anche quello adesso su chi voglio andare quello non è che mi spaventa i morti ha un termico almeno da 4 ti ricordo che dal person turno 1 ma se neanche 2 dal person turno se sporto c'è un 4 più invulnerabile possiamo farcela me la chiama la regia me la chiama la regia me la chiama ma anche se avete un gatto neanche le modande non cambia si effettivamente è impressionante facciamo così mi tengo ad un pollice overwatch no rispetto a te lo mollito sai ma ti assumo come lecce andate in faccia userò l'abilità del perché fine movimento uso l'abilità del momento per spostarmi i bellissimi guerrieri li metto ciullo lo bit si eh no non potevo muormi la prima più di tanto oltre 6 pollici da lui già e oltre un pollice da me esatto non ho i cp per farli fare in modo che possono caricare ma chi secondo me non sarà questo problema potranno sparare possono sparare quindi apposto così stavolta con tutti è 40 i colpi questo lo mettiamo qui dopo controllo bene come si dice la gettata dell'aura della distanza quando posso metterlo qui da lui mi mancano 7 ferite la crisis mi mancano 5 6 pollici ci siamo ci siamo ci siamo ho preso tutti sì ok ok e poi facciamo arrivare qualcun altro ovvero i necrocecchini 1 i necrocecchini 2 tu in riserva c'hai ancora un piragna un piragna siamo una certa di qua che c'è il bel comandante in teoria il noder si deve forse con 2 ho paura se li metti vicini ah no ok da lontano tutti sì c'è la conga intanto possiamo avere la pace grazie e questi altri mi sa che faremo anche altro perché voglio essere in grado di poterti togliere più cosa possibile sarebbe quello l'obiettivo ma l'obiettivo del gioco quanto è umano lei e boh si tenta di fare il più possibile più danni possibile tipo lì che così ti tolgo qualcosaltrino e altro non devo qualcuno è così folle overbocini niente no ok fase di tiro vai non c'è un cp ok boh iniziamo subito dai cinque cose qua sul commander dietro a sto punto tanto c'ha sette ferite otto sette boh io tiro intanto bellissimo spero sia un bel due più ma qualcosa mi dice che questo mi dice che sarà tre più heavy probabilmente sono troppo forte tre più heavy al cinque fighissimo è stato bello ma ci hanno provato gli altri cinque stessa roba sui stealth sud quindi al quattro invece due qualche va al quattro non è vero al cinque al cinque al tre al quattro al quattro al quattro al quattro ah scusa comunque al cinque salvati l'hai salvati tanto arca apocalisse qui sparma armi secondarie sui cosi sulle stealth armi principali ovviamente sui remora quel che si chiamano tetra quel che c'è armi principali sui tetra armi principali sui tetra armi secondarie sui stealth quindi sono dieci colpi che mi dai cover comunque sui tetra perché non tutto il tuo modello deve avere tutti i miei modelli una parte del mio modello tutto il tuo modello deve avere tutto il mio no tutta la mia unità deve avere tutta la tua unità c'è il tuo octane in mezzo non funzionano così mi spiace ci provo per bilanciare la sua fortuna trassa per play e bilancio la tua fortuna quindi sui ghost sui ghost al quattro i stealth operiscono ancora quel che c'è dai una auto ferisce due colpiscono al quattro vai due due da più zero a tre una ferita ah perché non c'è una armatura a tre abbiamo detto sì una ferita su quella fuori dell'obiettivo di sei più uno colpi aia distrutto che male si tre moto tre moto vedi due colpi due colpi due cipi ci sto pensando più che altro cosa dice il buon degra quando si roll agli uno se ne rolla mai ma Giovanni se Giovanni fa sei senza sentire il tiro di uno mi fa sette su sei senza contare più uno tanto si ha bisogno spendo un cp 3 colpi al 2 lascia la doppia ok al 2 poi ti dica ci sono 4 devastanti e 2 almeno 4 senza cover vai e ti amy 2 i danni e 4 4 4 12 muore uno e 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 uno bene qua non si tira qua arca apocalisse secondaria spara tutto ciò che può sulle crisis perché secondo me secondaria non arriva no c'hai blast stavolto 2 2 no e quell'altro non lo vedo ma neanche quindi di 6 più 1 più 1 7 colpi bene meno per 6 per un cp un cp ok dovresti dirlo prima ma sì nel momento in cui tu mi targetti appunto e stavola dicendo quale da targettare al 2 2 no non ti offrisci questa fortuna al 2 e 6 sono 4 peccato 5 5 invulnerabili 5 4 4 danni l'uno un cp e mi togli 2 quindi uno morto ah no giusto sono 4 fino poi 4 fino poi no ma quindi ancora un 2 ferite l'ultima quindi massimo è questa comunque una crisis more un fino pain utilissimo una crisis morta quindi altri due punti di bring it down toni me tocca spara sulle crisis chi non volevo dire quello volevo dire qualcosa le toni sulle sulle go skill lo can sulle crisis toni no crisis toni sulle stealth toni sulle stealth che difficoltà ho visto i tiri ho visto i tiri è bastato albretto ecco mi piace giovanni questo mi piace grazie mi stanno fottendo i chakra nell'angolo si naruto naruto arca poca no la abilità del maestrino maestrante mortali cos'era si veramente presente dai dai quattro mortali sul cioè quattro mortali scusa quattro danni per le mortali sulla griptide due mortali tre ferite rimanenti vabbè eh così due mortali lui vai fammi il resto quattro danni dividi i colpi dividi i colpi un attimo allora così importante ti dirò tutti quelli che possono intanto il plasmante sulla riptide tutte quelle che possono sulla cosa anzi adesso contiamo per bene però molte sulla riptide laserino non c'è più allora questi tre sono totalmente al centro cosa quindi possono questo può questo può questo può questo può basta lui ancora anche questi perché la cosa è qua quindi sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci quindi dieci guerrieri sulla riptide la plasma sulla riptide ti dirò che questa armatura è il tre questa armatura quattro quattro se in cover però non tutti li vedono appunto quindi se in cover quindi è uguale e ha sette ferite ma io sparo su tutti gli altri che possono qua quindi dovrebbe essere sono dieci abbiamo detto la quindi al massimo tre loro benessi da milla serino anche l'angolino scafo ti dirò legno un conto no scusate vai vai uno non vede uno non vede solo uno non vede facciamo due qua dai dieci quindi dieci su riptade 8 sul coso e due sul cosa i due sulla cosa quattro colpi al quattro i cinque autoferiscono tutto combinato tre autoferite quattro autoferite quattro salvezza al vip meno uno se in cover e quattro sulla daviscio sul daviscio queste cover a salvo 8 colpi quindi 16 4 8 12 16 sulla roba piccola abbiamo detto al 4 i 5 sono al 5 i 5 tetritrici e i rolli tutto tu hai forza da 5 7 ti dirò se proviamo io c'ho comunque il più meno uno quindi si aveva il 4 in questo caso sono 7 no 7 8 10 10 autoferite e 1 1 5 10 4 10 4 7 ne subisce 2 3 bene ancora 4 e ancora 4 e adesso i colpi sulla tizia 20 20 quindi sono così e speriamo di riuscire a copparla adesso al 4 il 5 autoferiscono abbinato questo mi sa che abbinerò tutto ciò che non c'è più perché adesso no resistenza al 9 quindi ti fesco comunque al 5 ecco ho fatto un poche critiche povero cucciolo povero cucciolo grazie statisticamente sotto 8 autoferite e queste al 5 più sono altre 5 13 tp-1 sei in cover quindi al no ma tu hai al ma tu hai al 2 esatto e allora 13 al 2 1 2 4 3 4 4 ma sono 3 ferite si 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 esplode questo deve essere molto brutto si esplode big dice no no 3 punti di bring it down e quindi i colpi del plasmante vanno sprecati 3 e adesso ma è da te scusa comunque le cari di stare con il monolito si pensavo che te le fosse tolte per no non ci facciamo fisicamente beh possiamo tentare di buttare le giù ancora si eeeh più che altro ci sono andato fino appena alle 6 hai un quadro più di vulnerabile chi non ha un quadro più vulnerabile le voglio buttare giù il il davy fish poi il davy fish la pace amore rischia di fare la giù eh abruzza cazzo abruzza è giusto eh facciamo frusta a particelle su frusta dentato esatto loro hanno resistenza alle crisis cinque 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 se la ritengo frusta particelle sulle crisis due cannoni laser della morte sul tetra cioè su quel coso lì sì il tetra no quel quel che è il tetra il tetra giusto bravo e due sulla broadside mi sa quindi frusta particelle 3 di 6 colpi 9 colpi forza 7 9 8 8 meno 2 due danni devastanti però forse blast mi sa che è blast non faccio caso di solito blast quindi sono un colpo al 4 4 perché purtroppo non è heavy e adesso mi sparo no faccio al 3 scusa adesso recupero il dado al 3 sono 4 danni devastanti e una vulnerabile qua vulnerabile salvo 4 danni devastanti complimentimi fino a poi sono veramente utili ma non una con due ok e appunto allora i due sulla broadside al 4 colpiscono entrambi genero 3 colpi addizionali 3 colpi addizionali 5 colpi al resistenza al broadside abbiamo detto 6 al 2 5 5 al 6 di più o meno 4 3 di 6 danni 3 di 6 più 1 quindi 3 di vabbè dai qui 18 danni vedi se esplode se esplode 3 punti di di bring it down 2 sul tetra 2 colpi sul tetra al 4 va solo 1 al 2 presumo meno 4 sul tetra fammi danni ah di 6 più 1 danni se fai un bel 1 mi fai un fuore 1 perfetto ancora una ferita ecco tensing eeeh fase di carica cariche scorticatore sulle tue tutti i nestelt carica di 4 11 eeeh monolito sui cool sui cosi io tiro ho fatto 11 io non voglio dire ma è 11 spaccati io non ho parole quanto ci ha in questo momento lui? 4 io non ho parole eh so mi spiace scusatemi in realtà mi nego tanto non lo posso dire eh scusatemi pubblico overwatch si puoi fare overwatch spendi un cp overwatch te lo faccio con l'alcino secondo cosa no quella è crisis prima e parte quindi te crisis alla partenza sta bene commander senza surriscaldare niente 3 3 in questo momento lo magari 2 no commander copisce con 2 poi e genera comunque 2 colpi perché a stendere 1 di base sempre quando ho il kawiyono 1 di base 2 se sono marchiato ok e al 6 al 5 sono 2 qua dp faccio meno 1 danno 1 altre no un danno un danno un danno un danno un danno un danno si esplodi un po' e dopo con con l'8 trascendente multicarica tetra non puoi non ci arrivi fisicamente non ci arrivi fisicamente con lo spazio non ci stai ma scusa allora così sto qua ah pensavo sui stealth ok si si plasma contini di nome a caso giovanni una volta che lo dico commander io ho fatto anche un 6 complimenti quindi niente a posto multicarica guarda 6 però devi andare oh è quello un feicolo sai che non puoi andarci sopra non puoi attraversarlo c'ho fly con 6 pollici non riesci a fare il gioco sopra vediamo aspetta intanto vediamo con 6 ci riuscirei se potessi fare ah 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 quindi la falliscono ok pace obiettivi peccato bene muli attaccami ah si scusa ah si diversi infatti ti ritrovo fa il giro in realtà potresti con 10 pollici e metterli d'altra parte così c'è non posso attraversare i tuoi modelli i tuoi attraversi con 10 pollici vabbè ci sto arrivando pollici scusami scusami no non so non mi fido ecco così quanta serie massima di una secundaria? 20 21 si quant'è lui? con un DAO 18 eh ancora 2 punti ok iniziamo si boh io ci sono una crisis stelt no stelt monolith scusami 8 attacchi al 2 scusami no non erano 6 attacchi si attacchi esattamente 8 8 si al 3 si al 3 tu hai stelt non fuzzi con la corpo lo stelt no è per sapere se 2 2 ha al 2 ha dicemelo 2 al 5 ha morti in 3 cambiammi 3 perché il sergente ha 3 ferite cazzo merda poco eh è divertente stava lì faceva le ultime ferite rimanenti scorticate horse sono insieme a 4 attacchi l'uno no non fa niente l'unica cosa che ti fa è subire mi dispiace mi dispiace si non so cosa si trova ok 20 attacchi al 3 emozione per i prossimi due mesi io non devo giocare con Giovanni Giovanni deve avere un sull'esatologico 20 attacchi al 3 i 6 i genitori colpi cos'è questo ah i spasticati vedi quanti uno e genitori un attacco wow forza 4 quindi al 4 si finato no questo che buono fortuna non sono tipo mortali o altro vado quanti sono 5 10 13 non è abbastanza per farti fuori 3 almeno 1 meno 1 forse anche meno 2 tu tira intanto 13 13 al 4 dai 1 2 3 4 5 ferite sarebbero morte 2 una ferita sergente si 5 ferite morte 2 una ferita sergente e puoi rispondermi puoi rispondermi non farò gli altri lo so già per fare cacchio ci sono 3 attacchi 2 attacchi sergente al 5 controllo 1 al 3 al 4 un tiro mortuale yeah al 3 aspetta forse no il tuo cilic corpo corpo beh ti mettere un cannonazzo in fronte te credo no armatural 4 quindi una volta bene 1 victory per me si bene moral victory fine turno tuo fine turno mio turno mio signora regia 5 punti di primaria sicuro e adesso battleshock pesca assassination pesca assassination interessante vabbè è facile e battleshock su stealth a posto ok battleshock sul tetra no perché sono scala due modelli quindi non lo fa ah che il character no perché sono sopra la metà ok e niente adesso bene bravo ho pescato assassination e questo è interessante ok questo è interessante allora farò un po' di cose adesso sbarcheremo dito pensa te questo sbarca rimane a quante? 5 questa farà fallback e può far fallback in shoot perché ha l'acquaggiamento lei no no problem loro sbarcano non fare bua dei guerrieri del corpo dei breachers quanti ci trattano le armi delle crisis 18 e 24 sto pensando se farti over su quei breachers di rifarlo sono un breacher stupid breachers invulnerabile sul monolito non ha senso posso darti hazardus al massimo ma l'unica unità su cui conviene sono le crisis che sono lontane non penso che verranno ah batterci sul cane un cane che ancora visto si fa ripreso un bravo cane ma si ti spendono il mio cp per fare sulle 40 colpi che bindono ognuno resistenza 3 3 si lo tieniamo e muovo il resto tanto finché tu tiri tu tira bene tu muovi bene scusami cosa mi serve ancora niente giusto? poi solo muovo hai detto io si si vabbè al di quello no qua son 20 al 6 che in effetti autoofferiscono tanto e che bino lo giuro sono due bino questi due no e quindi gli altri 20 no perché peccato non è batterla oh già meglio io posso volare altre unità sì quindi io potrei muovere acqua qua muso non ce la faccio fisicamente scusate da casa se copro un po' quei capelli sono 9 salvezze 9? aspetta 9 salvezze di Gauss che puoi intanto fare il bp-1 6 in cover e dopo i 3 attacchi del 5 3 6 9 4 per i zoom di 6 mi fido 6 9 4 2 3 4 6 morti così ok in omaggio al 4 una che colpisce di quella ferisce 6 3 sì un altro morto vip meno 3 danno 2 e meno 2 al 6 ah sì giusto al 6 ok boh non si pillano spuso ah io scusa ciao eeeh a posto sono in baglia degli elementi adesso scopami in monolito qua 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 8 ancora proprio in qua e arrivo in tro 8 10 a stelta scotta cambia strada 10 scorpec scorpec uno scorticatore e adesso il monolito no giusto no un'arrivo in corta va bene non posso danni vulnerabile mi sa che si eh resti qua allora dipende con cosa mi spara vabbè che c'era dispensato vediamo dipende di lui cosa vuole fare questo è il teo è sicuro non ti spara l'unica pff perdono ma cosa c'era non è di cazzo con il piranha che fa tipo grande che fa il piranha no quello ferito perché così almeno ha più senso che però deve ancora arrivare l'altro si esatto ok ti faccio questa apparenza di un piccolo flash bendico telemetrici non di acquistare va bene però necron flash bendico necron metallica qui che si chiama il doctor cortex doctor cortex doctor corto questo si muove in qua semplicemente per essere fuori vista dall'arca e dai cecchini va bene lui farà questo lavoro qua vi faccio vedere 14 corso frida rimasta questo 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 ok ok che ho mosso tutto tornerò il piagno che manca manca un piranha ragna al piranha si mette l'acqua per avere un paio di opzioni che bello piranha panic ok bene io ho mosso tutto fine fase di tiro cioè fase di movimento scusa va bene passiamo avanti in un altro mio facciamo le cose facili ok il tetra spotta i guerrieri alle crisis va bene tarajemmin non ha niente a usare auto gratis go to ground quindi cover sei più di vulnerabile ok tanto da cover te la nego sei più di vulnerabile va bene hanno tifrite una hanno restituto a 4 quindi cambierebbe forza a 7 ok quindi adesso le crisis no mi sono il crisis adesso non pensare allora commander su riscalda posso fare a forza 8 e una sky su riscalda genero niente però ripeto tutto tutto vuoi ricordare tutto colpisco il 2 ma sono fatto a più eccolo per il generale 2 perdo un colpo prende su quello che ho tirato ok al 2 al 2 sono 8 8 almeno 2 8 almeno 2 è ingumerabile per la 8 morti così 6 io ho 5 per la caris ancora 6 9 i 3 verdi sono i suoi scaldati gli altri no qui sono sempre ionici scusate ah beh che mi ferisce al 2 sì sì i verdi che feriscono il 2 gli altri no lo ripeto questi sono qua e mi metto dentro 4 rossi buono indifferente in altri modo allora uno ferisce 3 gli altri sono questi qua questo almeno 2 gli altri meno 1 se volete fare questi fa bene meno 2 meno 1 ok tutto in ira cover abbiamo detto quindi questi al 5 e il verde al 6 altri 7 morti ok mancherò 5 il plasma non plasma si 7 morti non 5 7 morto plasma questi imbordi fa tanti i 6 non ho fatto abbastanza 6 tiriamo un po' i dadi ci sono più 6 devo fissare questo è un 6 ho girato questi non vanno entrano dentro altri 8 dadi eh busto via si ho girato tutto al 2 questi sono almeno 3 danno 3 ok devo fare 5 alla volta quanti sono? 5 10 5 alla volta al 6 muoiono 4 ma nemmeno 1 sai che ho sbagliato i muovi le caratteristiche cambia niente in realtà perché mi sono indicato a muovi 18 ho mosso i 12 come se stessi muovendo e basta contento ok no perché ero fuori ho detto eh muovi i 12 al 3 5 me ne vantano facciamo 1 alla volta al 6 no e adesso 6 di vulnerabile sul quanti danni? 3 6 sul sul coso 1 salva quindi 3 danni su quello e il guerriero è morto 6 sempre porca miseria 6 sempre no quindi morto plasmante e sul coso no niente salva ancora 3 ferite? no di tutto ah ok non hai ok il guerriero è il fuoco 4 punti 5 punti di assassination breacher vanno là e assassination è finito e non posso farne di più giusto? no è fatta 5 i breachers sul tuo personaggio ok no dovresti si attacchi al 3 ok perché colpiscono 3 base un secondo se mi conviene papà io ho messo quello lì vorrei che andrò lì aspetta no no i guerriero fanno fatta la fine allora il tetra spara lì per il tanto il tetra l'ha già spottato sul tuo personaggio sono due attacchi per il sotto 15 pollici vengono entrambi non genera niente un tiro matura meno uno danno uno cover sarà l'opposto allora tu mi hai messo in testa non mi hai messo in testa ma adesso andiamo a tirare il monolito andiamo a tirare il monolito quindi tutto allora la stealth spotta al piragna il monolito vai il piragna termico ovviamente non colpisce 4 colpi di carabina c'è colpito al 3 tieni conto ripeto di uno ma non vale solo uno beh uno scusatemi al 2 presumo si 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 ok stealth spara lì termico non colpisce perché colpisce al 4 l'altro tetra l'altro tetra no il piragna il tetra è già sparato manca il tetra lì in fondo che mi si vede adesso adesso guardia il fuoco spotta al monolito non me lo vedo si dove era il towering non sta toccando le difese si sta toccando questo edificio va sono due sfese toccano questo edificio io ti vedo sei sull'angolo ah beh si scusa spottano per lui il monolito ok per il piragna cioè si per il piragna si per il piragna ok due missili cacciatori lì e il termico andrà sul sul personaggio termico termico sul personaggio termico 18 ok si termico e missili vai missili uno ovviamente al forza no mai più forza 14 forza forza 12 ho paura forza 12 perché mi si è figo 14 14 meno 3 nega cover al 5 scusate era un 5 5 ovviamente salvo ovviamente e il termico sul personaggio che non colpisce ok i 6 colpi di breacher là sono sempre sul personaggio si ok vedi genero due colpi 4 4 ah no quella reliquia che ti fanno no comunque no perché non sono spottato ah è spottato ok e forza 6 quindi meno 1 danno 1 la resistenza 5 6 mi sembra comunque del 3 ti ferisco si 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 boh io tiro intanto sicuramente il 4 più adesso controllo vp meno 1 danno 1 fammi vedere e non hai cover che ti vedo completamente il modello sono completamente dentro l'edificio quindi non c'è un muro davanti le aree non contano per scinare la rovina c'è scritta la rovina se sei completamente dentro al segmento così ho il 4 me ne sono salta comunque questo e c'ho resistenza 5 quindi anche gli altri due comunque non cambia niente no non cambia niente una ferita e il macro 5 mancano i due personaggi no manca anche il piragna e il piani del fish manca del fish non spara niente dove spara il del fish il del fish spotta aspetta un secondo tetra spotta al commander dietro mi sa un secondo questo è divertente allora il del fish spotta il monolito il commander davanti beh si non surriscaldo penso entrambi mi vedano si non surriscaldo quindi commander davanti non surriscaldo niente però genero genero a due colpi ok vadi non posso dare colpisce al 3 no al 2 scopo perché spottato genera 1 genera due colpi si forza 7 al 5 beh 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 7 qui sono qualche armatura vp meno 1 su 4 e mezzo mi dicono si lo vedevo quindi 6 6 meno 7 comunque 7 meno 1 meno 1 mitnagy cover eeeh no 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 al 2 mi rimane una ferita questo è il davyfish questo era il comando davanti si davyfish spara sotto personaggio secco al piede di rotellina ok ah si davyfish sono tutti i pesci quindi non colpi non colpi quindi niente la frutta spara si sono un po' di armature credo 5 armature meno 1 5 armature al 3 si cover vp al 3 salvati meno 1 3 ferita 3 ferita 10 10 una volta 3 scusa 2 3 carabina qua carabinieri vinata altre 4 armature finito al 3 no e muore così come uno esplode cosa no non esplode peccato e muore così sotto un scrosciante si sotto la pioggia di finita potrei fare quel bring it down forse e sparare con l'altro comandante il tetra spot l'altro comandare il monolito non c'è fatto il tetra il tetra lì il tetra lì dietro si non ho già spottato un altro se non abbiamo tutto abbiamo abbinato mi fido vai quindi ignori il mio ignori il lock si riscaldiamo un punto comando ancora riscaldiamo non si riscaldiamo cosa 1 non mi fido non mi fido quanto i dadi ti lasci quelli quelli chiedo 4 attiri forse forza 4 non credo forza 5 neanche se essere 4 no vuoi lasci un fino a pain no sono 4 attacchi 4 attacchi meno un 5 e buona volta non lo faccio guarda che dopo ti mangi le mani ed è un bringing down che mi sono 6 punti quanti sono 6? 6 punti abbiamo detto 6 punti al tetra quanto posso far male? non lo ammazzi esatto comunque non ammazzo il tetra gli regalo un personaggio al massimo comunque lo tetra non ammazzo facciamo qua dai quindi sul monolito si dai guardi non surriscaldo che abina tutto abbiamo detto si devo fare molti 6 molti più 6 ok questo non va aggiungo si grazie 2 4 6 8 dai aggiungere 10 visto sempre di più meno uno da uno si e ti dica cover proprio questo ah guardate un pinano in cover va bene vai perché teatro fanno binari tutti a noi marcher adesso esplode il monolito ammazza l'ultimo per l'esplosione non so che non può provare io però sono questi 4 10 non c'entra più dai siamo giusto monolito devo questa soddisfazione si se esplode se esploderà sono di 6 danni no l'ho visto peccato bene adesso poi basta finito cariche tu cosa pensi mi scegono qui hanno adesso le cariche allora britcher sui cose crisis sui cose su chi ci arrivano 3 pollici sulla bleachers no bastone crisis si poi 6 6 quanto ferite da 15 20 22 quindi 2 più 3 più 1 sai beh lì siamo 44 47 si ma poco potenziale in campo ancora guardiamo il beta è un problema ok carico mi fermo qua ecco la carica qua e via carichiamo anche il tetra carica non fa bene guarda è a un pollice quindi e mezzo 5 pollici loro fanno i 3 pollici la carica quindi uno arriverà qua qua tenso a cosa perché no perché no ho i gp se vuoi buttare un gp così va bene forza 5 vuoi caricarmi anche col tuo bellissimo mandante l'optan no perché lì potrò fare un tank shock ma questo va qua si attiva si mette così ok allora mi faccio la cosa no 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 cold star 4 attacchi 3 attacchi al 4 2 forza 5 al 3 un'armatura forza 5 al 3 si un'armatura salvo 5 quindi ah devo farti anche sui la zarus prima magari mi sono indicato a presto sono 15 attacchi di crisis ok al 4 cioè al 5 si devo fare un tank shock effettivamente effettivamente questo questo forza al 5 al 3 beh beh sono 6 amature 6 amature al niente si 3 morti ma è uno giusto 1 e poi manca ancora il tetra il tetra il stupido tetra che fa 2 attacchi e chi forza il tetra 6 3 ma il 5 è lo sven si quindi hai fatto niente risponde sul tuo carretto carletto carletto 4 attacchi al 3 il 6 genero il genero 1 vai al 5 binato 5 binato porco fumo 3 meno 1 quindi al 5 3 al 5 non è finita abbastanza che fallo sotto metà a me niente a me si a metà metà a punto invece no ti amo prima buon fine fine il mio turno si ho fatto entrambe i secondari ho fatto i secondari anche ok turno mio un cp a te ottengo 10 di primaria le animazioni scorticatori uno grazie sicuramente fine del tuo turno arca e arca se ne vanno e anche ti dirò una di cecchini ok questi sono morti arca arco e archi ok che teniamo secondarie quali sono queste wow e quindi questo abbiamo detto che recupera sicuro con la ferita che mi manca peccato solo un scorticatore ritorna ah si devo fare il battle shock magari su di loro si è abbastanza importante tanto mi toccherà fare una no in realtà posso cosa fare mi sai puoi fare un bel desperate se vuoi lo farò perché tanto me ne frego di loro tirami no ci fanno il movimento ma te lo farò subito desperate escape salvi salvi via ce ne vanno addio tantini boom 5 aiuto questo sta fermo questo sta quanto è resistenza 5 1 2 perché tanto c'è poco da fare quasi quasi potrei fare una ruoccia no tank shock non può farlo che bello che birboni ahia che male ecco karma eh si karma scusate karma shock e qui devo prendere quando sto metà delle frite questi adesso muore un ton di overwatch sarebbe bellissimo ma non c'erano grazie esatto over champ si lo vedi lo vedi si ma no con dubbio no è morti scusa puoi scegliarmi cover oppure colpimi al 2 ti copisco il 3 e pace comunque cover per stare via ppiri pippi divido i dadi cinco cinco vai per esempio line detroit sta funzionando però perché non lo vedo non lo vedo è proprio in realtà online come lo vedi pubblicità usavo l'occasione per per tirare i commentori ma non va in play quindi dovrei avviare un salto BS proprio va ci siamo ok bene bentornati bentornati ok bene bene ci siamo ci siamo ci siamo ci saremo ci siamo non ci siamo allora stavo dicendo si ho diviso i dadi per comodità cos'è? 5 nei crocecchini sul lonely stealth al 4 più 3 al 3 più 2 al 5 una ferita 2 danni 2 danni 2 danni sul piragna al 3 al 3 bel bilico bel bilico ha fatto un scherzone ottimo al 5 questo forse 5 magico 2 quanto? quanti? 1 2 danni sul piragna 3 lo gnogno lo gnogno nori 2 danni lo gnogno lo gnogno nori ma i 4 invulnerabili 4 meno meno 2 ai 4 quanti anni di 31 ma ecco quattro ferite rimaste ok 4 punti di assassine lui ha fatto ciò che doveva e anche i libri down credo perché anche un veicolo e adesso la arche prima arca sulle crisis 2 e 2 ma sei 2 tanto è maxata no ero su 18 si si da 2 quindi prima arca per sicurezza quella che vede storta ok ha speso un cp controlli se ci fa la carica 3 pollici di carica prendo più uno c'è sempre ne lo sai ho più paura dei credit prendo un cp per binare questo ecco 20 e 7 tocca al p perché si è in blast al 3 6 al 2 6 invulnerabili 6 al 4 e dopo l'altra si sono svegliati i dadi ma che male che mi sono fatto e l'altro appunto l'altra arca di 6 più 1 più 1 7 questi fanno male al 3 6 al 2 vai 4 invulnerabili aspetta primo primo 4 2 frite rimaste morto morto altri due punti di bring it down sarebbero e sono finita secondo 4 frite l'ultimo morto e sono 2 morti 2 morti fine di tiro cariche carica dell'octan sul tuo custodes custodes cioè custodes 6 perchè e qui faccio l'overwatch ok plump sono 8 suddiscaldato ma mi ammazzo prima che tu arrivi e gogo no no non cambia tanto se vuoi cioè rimanere sempre tecnicamente non cambia niente ma forse no vai uno del genere è uno quindi due colpi al 5 esteticamente non muovi la carica perché non hai più puoi caricare si però in realtà tu lo stratagemma lo usi quando io mi inizio a muovere quindi cosa succederebbe e ci fai la mossa muoio perchè lui non può sparare quando finisce il movimento quindi eh però tipo io inizio a muovermi lui muore mentre io mi sto muovendo non ti muovi prendi ah boh ok si ok niente non mi ricordo se sono 6 o 8 attacchi se il comando non muore godo godo la chiamo il tossino muore 8 attacchi 8 attacchi al 2 i 6 general neanche 1 ferisco al 3 6 attacchi al 5 non 4 va di buono non devastanti grazie a te meno per fortuna meno 3 danno di 6 7 6 6 al 5 ah no c'ha non è vulnerabile che ne so io quante ne sono passate 4 di 6 danni 4 di 6 danni me li faccia per il suo dio ricontrolliamo meno 3 si 4 di 6 danni ne ha? 7? si non è morto direi posto 22 altri 4 di assassinate si e lui sta fermo vogliamo fare alto bene turno no tuo ah si turno tuo bene un cp a me un cp a te quindi tu sei a 1 pesco le secondarie pesco le secondarie poi capturing outpost ottimo e investi in signals quindi azione negli angoli che posso fare ben due angoli bonus e capturing outpost non posso farlo direi battel shock sul niente si sul sul cane sul carretto cane a posto carretto no per sopra la metà sempre sui loro a posto perché sono due vero si mannaggia mannaggia bene crisis niente appunto bene mulie vai ok 10 punti 10 punti ho fatto al massimo 10 giusto? no 15 15 ok bene cosa possiamo fare è farti la bua lì o fare le missioni di angoli in realtà posso fare 3 angoli ha ha il mio cane è fantastico sai che ti dico Overwatch? usi il tuo cp per l'overwatch per un cane? su cos'altro lo devo usare? anzi qua dov'essi entrano noi all'angolo non arrivo a vista mi fermi tu l'angolo tecnicamente ho dovuto vedere da qua no va bene mi fai risparmiare un cp non lo vedei? perchè avrete il muro tu si va a tracinare la punta del cosa? mettiamo il modello originale? no no beh si usa il modello che si ha non il modello originale però va bene mi risparmi un cp bravo questi fanno qua questi fanno il fuoco avanzano uno abbastanza per toccare l'obiettivo credo si 7 ci arrivo no no loro vanno qua a fare l'azione dell'angolo ok riesco a fare 3 angoli non riesco a fare quella altra ma pescheremo un po' di quindi sono 6 punti eh quello che ci conviene fare adesso è lui è arrivare entro 9 da te chtannilo chtann tocca la foglia termicata sperando di fare di bua ok perchè è il termico 4 ciao eh voti in mezzo agli 6 vuol dire full non credo il modo 14 mi pare se il tetra il modo 14 se un attimo dopo e comunque siamo lì e lì eh tra 10 punti di differenza devo fare la prostituta siamo lì lì si proprio si allora in piragna partite ma 12 12 12 vuol dire dovremmo essere a 30 siamo a 31 non posso spararti quel termico non è un assalto di termico il piragna giustamente no devo essere a 6 6 speriamo bene la sotto 6 cosa? 18 no il crisis 18 18 18 18 18 19 19 20 or ok azione 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 movimenti vinti per non più roba in campo speriamo Allora, adesso una roba, controllo, non ho fatto una cazzata, prima di fare cazzate, no, ok, ti vedo, facciamo sì, ti vedo sicuro adesso, va bene, no, ok, ok, tetra, lì, spot aglio, L'Octana al Piranha, vada buono, dammi un bel 6, no però colpisco, mi contenterò, al 5? Ovviamente non ferisco, perché? Poi c'è più per abbinarlo, queste sono le carabine sfigate, che però sono combinate sul fariero almeno, ok, forza? 5, inizia a 9? 11, quindi anche questo, ok, 2, di più? Matura, hai 4, 4 sui cover 3? Non hai cover perché ti spot, allora, ok, 1 fino a penal 5, sì, bene, crisis, su di scaldo, l'ira di niente, 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 scusa, tu di mezzi danni, io faccio anno 2, quindi no, se io faccio danno 3, tu di mezzi per cesso, ok, perfetto, l'altro tetra spot all'oro, ok, commander, questi qua, rirolerò un po' i tiri, qui mi sono dei 6, adesso, è abbastanza 6, togliamo 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, questi sono i gionici? Sì, dei commander, 6, 8, 10, 12, ok, al 5, al 5, al 5, non ho rirolerò, quindi al 5, questo è una commander, 5, 6, 10, 12, 12, 4, questo invito, passano 4, al 5, 3, 3 danni, 3 danni, è giusto, è finta, non fa danno la sua spada, plastica, questi sono casi normali con gli ionici, ripeto tutto, ok, invia questi, e dentro 2, ok, al 5, al 5, 1, 2, 4 più di vulnerabile, salvo 1, lento di mezzo, al 3 eccesso, dentro 2, 5 più, e 1, plasma, questi mi sono dei 6, neanche un 6, questi sono gli ionici sempre, gli ionici di unità, oh guarda, dei 6, dei 6, capelli, capelli, vai, al 5, mi fa strana questa cosa, va bene, vai, 3, 3, al 4, Liby, no, cos'altro mi fai sparare? Posso farti un tank shock caricandoti, ok, e basta? E sì, basta, quello è finito, spendo il tuo ultimo CP, 2 danni, 5 più di fino pain, no, 2 danni, vuoi essere fatti rimanenti, non è spesso più un CP, perché c'ho solo un CP, c'avevo, ho fatto un no, sì, no, non l'ho fatto, un CP, ancora, no, prima l'avevo usato un altro, no, no, quello è giusto, adesso siamo, sono i rolli, ha fatto, ah no, il numero di colpi dell'altro, ovviamente, ti manca, il numero 2, allora, qui, spariamo un po' su questi qua, no, e te e piragna, anzi, sì, piragna spot al delfici, i tuoi scotticati, delfici attacchi di rotellina, genero 0, colpisco con 3, sono solo 2, quindi, 3 armature, almeno 1, 3 armature, al 5, sono morti, no, aspetta, esplodono, oh, 1 sì, possono esplodere, veramente, no, io che ascolto il mio avversario, no, non si devono, non si devono, faceva ferita mancare, ok, adesso tocca, l'ultima cosa è la carica, vuoi caricare il mio? Sì, ti caricherò il tank con il delfi, il tetra, il tetra con il piragna, vediamo se si arriva la carica, se si arriva, che faccia 5 attacchi, adesso controllo, mi telefono giù, ok, 5, no, scusa, forza 4, fa 4 attacchi, mi fai mortali, 2 mortali, è che preferisco questo, una ferita, a posto, 2 attacchi, al 5, 1 colpisce, al 6, niente, rispondo, vai, 8 attacchi, 8 attacchi, al 2, in caso devo far rifare il battesho con il delfisch, eh, con il di piagna, devo far rifare comunque, sono signora, si, si, si e altre, scusatemi, porto cane, 2, 2, 2, 1, 2, 6,6, 1 di 6 danni 4 5 io troverò un po' di scattere che twist fine turno io faccio scatto e mi capcio un outpost per un cp così vado a 3 cp 2 cp scopriamo il tank shock giusto, vado a prendere scatto e fine il tuo turno io toglierò e faccio 6 cp scusate se non mi sono perso 6 punti di torre per investiti signals 1 2 3 perchè c'è il cagnolino maledetto il cagnolino nascosto da prima si appunto fino al tuo turno tolgo le 2 arche e quest'unità di 5 cosi io vado a 3 cp all'inizio del turno non hai usato si ne avevo 2 ne ho guadagnato 1 per scattare la missione a fine mio turno 1 cp 1 scatto e poi che missione ho io bring it down assassination si puoi prendere anche una fissa fissa? no non prendere una fissa no è del portone battel shock sul sul cutano buono e omer paga abbastanza i movimenti questi sono fermi per fare ciò che devono primarie 10 punti 5 punti di turno puoi pagare 5 punti di turno con il passare? si nel portone 4 scuola 4 scuola 4 scuola 4 turno gratis con un modello single fattive dico certo che no oh no i pauri cani perchè c'è c'è dato i cani no ci vado alle crede come i cani dove vuoi andare? dove vuoi andare? qua mettendo il piedi vulnerabile si se voglio potreste attivarlo quando? quando lo attivo io quando lo voglio, quando lo attivo la targhetti io si attivare o no deve avere entro 12 entro 12? entro 12? per far che? eh, la norma operativa anche ah, beh, mi sposto qua stai dentro il campo? ci sei? lo vedi? perfetto sono entro 12 qua sono qui, uno qui, uno là è altro un po' questo è il mio quinto questo è il mio quinto bom muli, tira le 5 decorcecchini sul... tu lo fai alla fine si 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 5 decorcecchini sui cosi lì perché ciò devi tutti su una scuola, su una scuola, su una scuola 5 a 4 3 4 bene applico il personaggio 3 ma è di più o meno 2 due danni salvo ok ci abbiamo provato l'Octan sei colpi al 3 perché sono dentro ah si scusa le animazioni dell'Octan si 2 il altro no no 2 punti city in un dado così e questo genere quindi scusate questo al 3 sto sparando sul tuo il tuo corpo ok almeno uno che ho creato si vai quanti hai? eh 6? vip meno 2 queste ah ok al 5 al 5 si vai 3 al 5 ritroviamo mi saliva no mi saliva morto vediamo se esplode e se esplode no oggi non esplode niente ma è provata con Collier sta lui in piagna fuori fuori al peraglia dal fuori no sparami alle crisis a lui l'orca apocalizzigan non ha più il blast no sono 4 d6 più 1 1 e un cp che userai? no forse si che tu mi fotti assolutamente adesso tu vinci di di primaria allora io faccio 15 punti di primaria quindi andrei a 77 dipende di che secondaria pesco dipende di tutto della secondaria a 75 circa 75 2,67 esatto tu puoi farmi comunque ancora sassine il tuo turno e guadagnare 4 punti quindi questa è la caso di secondaria poi l'idea di cercare si per quei cp il fallo e li ho tenuti adesso quindi non riesci a caricarlo mi sarà per essere oltre 12 giò eh doveva morire questo eh già morirà questo morirà questo morirà anche un altro personaggio eeeh ho fatto uno eeeh non asse ne ho senso ehm non asse se stai direi a me nel telef или con tono questo schiamamento è circa 4 quindi se muovi 12 posso fare azione no qualunque cosa che vengono con vincita e niente boh dai persa per persa vai cosa ha tirato suon te? sei che domande che domande al tre fino a pieno al sei inutile ma lo metto comunque al due vedi sei sei anche se anche se farisci tutti tra la stupe tre non c'è mazzo quel che mi serve andassi io ti faccio a testa bello allora prima fa otto morta morta seconda fa otto morta c'è il mio cp è il solito in spie vediamo i secondari sparano in aria per felicità già vuoi farmi la sua va? sì vedi attirare il 2p ovviamente chiaro due casi sì quant'è tenuto l'obiettivo? fammi vedere no no sei su abita ah neanche meno uno a ferirlo anche lui sì ho il filo il 3 o più massimo 1 e 2 se non mi ricordo ok c'è neanche uno a ferirlo e neanche uno a colpirlo tutto? che cazzo è? neanche più uno a dare a dare di 6 pollici perché me lo è un pa è l'ologramma perché me lo ho da colpire la sua regola stupidissima perché non pergo un ologramma ah se ho trai uno da colpire se ho trai uno da ferirlo che schifo e vabbè e ho due guardie che fanno da bodyguard sono 10 perché i primi due ferite il pupo non è il guardia 20 al 4 piano ok 10 attacchi 20 queste sono piccole hai capito so se e al senza media 3 quindi è il 3 l'interno del 4 quante sono? 5 al 2 no 5 sulle guardie è il 5 no l'intera abilità ha scritto la regola le tue regole una ferita ma io ci credo 7 colpi porca io abbiamo 7 colpi spero che hanno fatto 7 colpi a turno io non voglio dire al 4 però metà la canna così farei metà i colpi fai giusto di ferirli primo salvo salvo 18 almeno uno ferirmi quindi comunque 3 salvi una ferita subita all'unità per sfregio non farà nessun non si muove l'oktan carica cosa? una ferita cosa carichi? che non c'è ria niente c'è il cane dietro queste rompi ah scusa il cane hai ragione anzi arca sui tuoi cosi su chi? su un vama che non riesce ma che passa? si mi vola e ktan dietro? non c'è ria con 12 pollici neanche vai metti sul cane vai cane tanto vuoi che ktan è ormai andato toglimi il cane fuori no io volevo fatto bene finito lo tuo? finito lo tuo finito lo mio non faccio il primo inizio turno faccio la fine turno battesho quinto sui fire warriors fire warriors salvi salvi crisis io ho 3 cp quanto costa rigurare una missione? 1 giusto? io ho 1 cp sto pensando sto pensando su come fare tanto pesca le missioni questo è vero sono un po' diverso no prisoners storm hostile objective non posso farla no prisoners potrei farla e tu hai 5 cecchini qua e altri 5? sono... sono morti perché li ho messi sì perfetto conta? perché sono a fine partita conta un'unità distrutta? no li ho messi scusa li avevi uccisi erano quelli là sono sicuro di averli messi entrambi non li ho mai spazio non li ho mai spazio ah non li ho rimessi? no bene continueremo il passo e il primo giro te li gaschierai tutte e due a me in questo caso contro come distrutto perché sono distrutto alla fine partita perché non sono in campo quindi non ti sto a questo turno quindi tecnicamente tecnicamente un cp rapid ingress questo è vero questo è vero io come faccio a fare se risulta che contano automaticamente io come faccio a farti adesso un'unità distrutta mi sono due punti di vittoria per fareggiare cosa posso fare fisicamente? effettivamente ho un termico lì che potrebbe arrivare non è un po' d'agliere l'unità di 4 4? invulnerabile? tutti i miei veicoli che tristezza prendiamo un lito quindi non contano per la missione le robe in culo? ma secondo me sono un secondo no sto volando un secondo se posso fare in corte del termico o no ma si posso fare un cp un cp un cp e storno se c'è un oveland risolto cp con editoria non devo neanche immorare i modelli ho finito che merda che merda bene è stato abbastanza semplice è vero mi ricordo che potevo farlo sì perché non saremmo niente comunque è finita così faccio i 15 punti più 5 di storm di storm di secure non rischio niente nessuna overwatch e mi faccio i 20 punti lisci come codardo se no no tutti i capi sono scommessa non mi sono scommesso contro 15 di primaria 15 di primaria e 5 secondaria passo in automatico e battasho con le crisis che schifo ma te li ha pescato del secondaria secure no mannend no prisoners uso i due cp per passare in automatico e battasho sui crisis così non devo rischiare di muovermi sbagliandolo quindi 15 fatta mamma mia sono proprio scatti che rubata proprio questa rubata proprio scusa 15 e 5 di secure no mannend cioè di secure dai ti arriva una scarpa in fronte hai metti i punti a schermo che voglia voglio vedere la tristezza che merda 3 punti di schermo 3 punti no no veramente rubatissima perché è sopravvissuto quello lì con una ferita merito del cane si si il cane anche se moriva chissà il cane ha fatto due punti mi cerchi io non è quel cane no hai vinto di tre non moriva non moriva quello mi avvicinavo le case scaricavo precisione una mazzavola l'altra schermata 4 e 4 punti vincendo uno eccoci qua che tristezza io stanotte dormirò male mamma mia dormirò proprio male stanotte il fatto che tu mi sei dato lì in faccia ho detto vabbè poi quella ripeto vabbè sono dei necron spariamogli posso chiedere qualcosa dica a me brucia si brucia sai che sono proprio tristi in questo momento stanotte dormirò male ti dico ok se perdere 60 punti se ne fossero vincere essere convinto di portarle a casa questo è proprio perdere proprio l'ultimo turno ne parliamo quel prossimo da traslati giocare assieme a voi così brucia un po' meno così la prossima volta ti sei laureato e puoi farla monoktan prossima volta possiamo giocare cosa ci chiamo orchi guardia mi dicono orchi no gli orchi come aspettare cose ma lo esce fra un mesetto e mezzo due c'è più nel tau che è già stato annunciato ti rubano anche a te in degra ma è tanto giocare guardia degra non è un gran che provo a portarle al mondo di trenza manca un dado quindi prossima ci otteniamo così chiudiamo qui allora che dici è stato divertente divertente ma ti ha cambiato la partita un stupido tetra sì un piragna era un piragna con una carica suicida e ho detto vabbè facciamola a carica sì perché ha cambiato la partita odio il ktan non voglio più la noctana vita spero costino 500 punti in più per la prossima partita ma direi che è bastato è solo uno che mi ha fregato vabbè col monolito con il monolito giochi con 400 punti in meno fai una cosa il primo punto quel monolito l'ha fatto abbastanza male in realtà mi ha rubato da un po' assolutamente sì sì però comunque non lo potevo proprio no perché sono morti tutti prima che sono entrati sì ti ho fatto l'overwatch eh non posso metto uno in inizio tu o tu sì nel mio turno sì nel mio turno tu non fai la no che c'è magari no quello era il vecchio globo ma che lui ha lo scorpio che non può avere l'ho risolto beh che bello e niente comunque ripeto che triste buone botte buonanotte e necroncacca necroncacca alla prossima arrivederci allora è proprio rubatissimo e non va a un va non va grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti